La vittoria ai calci di rigore contro il Parma permette alla Fiorentina di approdare i quarti di finale di Coppa Italia. Adesso però l'attenzione è tutta al big match di domani sera dell'Olimpico contro la Roma. La Roma ha guadagnato 19 punti nelle ultime 8 giornate di campionato e arriva da 5 vittorie casalinghe consecutive in Serie A, mentre la Fiorentina da 2 sconfitte esterne contro Lazio e Milan. Buonasera e ben ritrovati con il sabato sera di Toscana TV. Giulio Falciai, ciao. Ben ritrovato. Buonasera Vittoria, buonasera a tutti. Andiamo subito a presentare il nostro splendido studio. Alla nostra sinistra ritroviamo con grande piacere Michela Lanza. Buonasera, buonasera a tutti. Spostandoci a destra invece ritroviamo Angelo Pollina. Buonasera, buonasera all'appuntamento del sabato ormai con la coppia più brava e più bella del sabato sera. Vittoria e Zio. Come sempre è troppo buono. Salutiamo anche Maurizio Canino che torna a trovarci qua in studio. Buonasera a voi, buonasera a tutti. E poi il grande onore deve venire in studio anche Massimo Orlando. Ciao Massimo. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Maurizio, parto da te perché non sei stato con noi la scorsa settimana. Ma vi ho seguito però. Ci hai seguito e questo ci fa molto piacere. Ti abbiamo anche salutato in diretta e non possiamo non analizzare Fiorentina Parma e capire un po' cosa è successo. La mia prima domanda è quante responsabilità ha Italiano in una sfida che non è stata approcciata nel modo giusto dalla squadra? Sì, sicuramente non è stata approcciata nel modo giusto perché è entrato con una formazione che io non avrei mai schierato. L'ha messo un po' tutti insieme, Mandragora, Breca, i giocatori che non venivano da un grande periodo. Mina, lo stesso Sottil che comunque poi, devo dire, nelle ultime due partite disputate ha segnato. Però ecco, la Fiorentina secondo me è partita non con il piglio giusto, di fronte a un grande Parma. Parma, per chi segue la Serie B come me, è una squadra che sta in vetta alla classifica della Serie Cadetta, sta giocando un gran calcio, ha giocatori sicuramente molto bravi ed è una società che secondo me tornerà in pompa magna in Serie A. La Fiorentina è stata brava e questo bisogna rendere merito anche a Mister Italiano perché poi è riuscita con la cattiveria, con comunque la determinazione, seppur nel finale, a riprendere questa partita che sembrava persa perché il Parma, non dimentichiamo, ha avuto diverse occasioni per triplicare. È stato molto bravo Christensen e un po' di fortuna che nel calcio ci vuole sempre, però ecco, la Fiorentina è stata, io a un certo punto ho detto non c'è possibilità di passare il turno, giocavano molto bene. Ha avuto un po' la presunzione, Mister del Parma, di sostituire un po' di giocatori, anche se, devo dire, che anche la panchina del Parma, comunque Massimo mi darà ragione su questo, sono comunque giocatori molto bravi. Però, ecco, lì secondo me lui ha messo i migliori, Italiano, il Parma ha fatto un po' di turnover, Fiorentina, miracolosamente, gran gol di Zola, che nel primo tempo non aveva sbagliato uno facilissimo, rigore di Sottil, che comunque aveva la pressione di doverlo segnare, e poi c'è stato Christensen e Roe dei calci di rigore. Però ecco, devo dire, una vittoria sofferta, però, una partita dai due volti, diciamo, Parma molto meritevole nella prima parte di partita, la Fiorentina di grinta, di carattere, giocando anche in certi frangenti sporco, è riuscita a portarla a casa. Ecco, vado dall'altro lato dello studio, da te Massimo, eri allo stadio a commentarla per Radio Rai. Sì, abbiamo fatto anche tardi un po' di giocatori. Nessuno si aspettava i calci di rigore, questo è certo. Una domanda forse un po' scontata, però, sono stati più i meriti del Parma o i demeriti della Fiorentina, a livello di prestazione, perché poi comunque la Fiorentina è approdata ai quarti? Direi un 50-50, perché la Fiorentina ha cambiato 8 undicesimi della formazione titolare, cioè quella di solito, insomma, l'ultima che è scesa in campo con la Salernitana, e devo dire che comunque, al di là di alcune scelte dell'allenatore, comunque chi scende in campo ha sempre un'occasione, no? che deve sfruttare, e non è stata sfruttata bene dai giocatori che giocano poco della Fiorentina, ma anche per merito del Parma, perché il Parma davvero ha dimostrato di essere una squadra di categoria superiore, però, come diceva molto bene prima, Maurizio, perdonami, la cosa importante è che comunque tu rimani dentro la partita anche in una giornata storta come questa, e poi quando tu fai il gol e riapri la partita, e la Fiorentina è stata brava in questo, il gol è stato bellissimo perché si è staccato dal difensore, stop e tiro da centravanti vero, tanto che non vedevamo Zola fare quel tipo di gol, e dunque, con sofferenza, tu passi un turno che però vale tantissimo, dunque, secondo me, bocciatura per quelli che hanno avuto la possibilità di giocare, e poi comunque, italiano, con i cambi, ha rimesso in campo una squadra che nel secondo tempo, non con un gioco splendido, però con grande carattere e forza ha ripreso la partita. Secondo te, Michela Lanza, bisogna registrare, comunque sottolineare, la bravura di italiano con i quattro cambi e quindi a recuperare la partita, o la meno bravura nello schierare appunto una formazione che ha approcciato così male la partita? Allora, sicuramente i cambi hanno fatto la differenza, nel senso che abbiamo visto proprio un cambio, scusate il gioco di parole, di atteggiamento dal primo al secondo tempo. Io credo che, è chiaro che spesso gli allenatori approfittano della Coppa Italia per cercare di far giocare chi di solito gioca meno, e quindi io non darei proprio la colpa a italiano perché ha cambiato troppo nel primo tempo. Io darei, per quanto riguarda il primo tempo, tanti meriti al Parma, perché ha dimostrato di essere una squadra che gioca veramente bene, ci sono un paio di giocatori, ma non solo un paio, che hanno messo in difficoltà la Fiorentina e che, cioè, Bernabé per esempio ha fatto un gol splendido, ma non solo quello, si vede proprio che è un giocatore di talento, non a caso se non sbaglio è cresciuto nella canteraia Barcellona, no? Tra Barcellona e Manchester City. E poi è una squadra che sta lottando per tornare in Serie A, mi auguro che torni perché il Parma ha una grande storia, secondo me, di questo calcio italiano che sta, diciamo, decadendo anno dopo anno. Invece a me piacciono queste squadre che mi ricordano il calcio anni 90 perché, insomma, il Parma ha fatto veramente tanto bene. E appunto, dicevo, è chiaro che poi l'italiano nel secondo tempo con i cambi, qui più che la bravura c'è un senso logico, tu hai mandato in campo determinati giocatori che non ti hanno dato quello che magari ti aspettavi potessero dare, nella ripresa manda in campo le certezze e le certezze hanno fruttato, anche per un calo poi, anche fisico un po', no? A lungo andare del Parma, perché poi il Parma, quando la Fiorentina ha segnato il 2-1 il Parma, secondo me, si è anche, tra virgolette, impaurito, no? Perché poi la Fiorentina ha preso coraggio con giocatori che possono fare la differenza in qualunque momento, torno a dire che Arthur è un giocatore imprescindibile per questa Fiorentina e quindi, insomma, alla lunga credo che la Fiorentina abbia fatto quello che doveva fare. Ecco, diciamo che io non voglio né dare troppi meriti a nessuno, né dare dei meriti a nessuno, perché secondo me questo era un turno che la Fiorentina, seppur con qualche difficoltà doveva passare, l'ha passato perché alla fine è stata più brava sui calci di rigore. Sono contenta di aver visto all'opera finalmente Christensen e l'abbiamo visto in tutto il suo splendore e nella sua follia, no? I portieri di solito sono un po' folli e questo ci è piaciuto, infatti anche a tanti tifosi, no? È piaciuto veramente tanto questo personaggio che è emerso in questa partita difficile e comunque, insomma, serviva il passaggio del turno, è arrivato dopo la vittoria con la Salernitana che, secondo me, insomma, non c'è tanto da commentare e ora testa alla Roma. Angelo, invece te ti aspettavi queste difficoltà della Fiorentina ma soprattutto questo Parma perché, come detto, è primo in Serie B ma probabilmente è più forte anche della Salernitana che è ultima in Serie A. Allora, il Parma è una buona squadra, gioca sempre in Serie B, sicuramente è una squadra che viene di sopra. Io penso che la Fiorentina, come fanno alcune squadre, abbia sottovalutato, come dire, l'importanza dicendo, ah beh, questi vengono dalla Serie B, adesso ne diamo due. E invece il calcio non è così, il calcio dimostra sempre che non bisogna mai sottovalutare nessuno. La Fiorentina ha recuperata, è stata brava a recuperarla negli ultimi dieci minuti perché il Parma ha avuto anche l'occasione del 3-0, se fai 3-0 la partita è chiusa. Però la recuperata nel calcio conta solo il risultato, questa dimostrazione di tutti quelli che dicono si gioca bene e gioca male e invece il calcio gioca bene e gioca male, ognuno ha la sua visione, non c'è un metro di valutazione, il calcio conta solo il risultato, la Fiorentina l'ha vinta, l'ha portata a casa, bene. Però io ho qualche sempre perplessità sulla Fiorentina, la trovo, cari ragazzi, ve lo dico sempre, cari miei amici bellissimi, la Fiorentina prende troppi gol e se facci il gol del campionato, nelle coppie, cioè il problema diventa impressionante perché tu la recuperi col Parma sul 2-0 come l'hai recuperata, ma se prendi con altre squadre importanti, vanno sotto 2-0 una recuperi, questo è quello che penso io, però è un equilibrio che lo dico dall'inizio dell'anno, secondo me la Fiorentina non è equilibrata, non è una squadra equilibrata negli 11 e continuo a pensarla in questo modo. Però è andata bene, adesso c'è il turno, il passaggio di turno, penso il prossimo toccherà la vincente fra Bologna e Inter, che sarà un bello scontro e la Fiorentina lì si vede già con l'altro salto di qualità perché la Fiorentina, la Coppa Italia, sicuramente è un torneo importante per la Fiorentina, fondamentale. Esatto. Ecco, aggiungo che sia che passi il Bologna sia che passi l'Inter, non credo che Vincenzo Italiano manderà in campo 8-11esimi diversi rispetto alla formazione titolare, insomma, se vuole passare il turno. Ecco, a proposito di Inter, stiamo seguendo anche questo sabato sera di campionato con Inter Udinese 0-0 con la squadra di Simone Inzaghi che è andata vicino al vantaggio, ha preso un palo, ecco, circa un minuto e mezzo fa. Massimo, tornando invece alla partita contro il Parma e in particolare alla situazione che sta vivendo Vincenzo Italiano che non è una situazione semplicissima perché da un po' di gare continuano ad arrivare critiche per le prestazioni in particolare della squadra. La Gazzetta dello Sport ha scritto dopo la partita degli Ottavi mette in campo una squadra imbarazzante, si corregge quei cambi e si salva. Poi in generosa? Trovo sempre abbastanza ingenerosa e anche ingiustificata perché poi stiamo a parlare, no, sempre che sono i risultati che contano e i risultati sono arrivati. Poi possiamo discutere sul fatto che non ha motivato bene i giocatori o ha sottovalutato anche lui il Parma, no? Anche con un atteggiamento come sempre un po' spregiudicato con la squadra molto alta, riprendeva delle ripartenze. Il Parma aveva i due esterni che erano incredibili, quelli offensivi. Infatti Parisi per dirti che è un giocatore che ha grande corsa contro il polacco, ora non mi ricordo il nome perché era molto complicato già in diretta pronunciarlo, è andato tante volte in difficoltà. Caiode che è forte sulla corsa è andato in difficoltà. Il Parma è una squadra veramente tosta, dunque qualcosa è stato forse sbagliato e sottovalutato anche da parte dell'allenatore, però le critiche dopo che tu hai passaggio del turno, passaggio del turno in Conference League e domani ti giochi un quarto posto, le critiche le condivido poco. Ecco, Maurizio, le condiviti oppure credi che insomma l'italiano abbia... Io l'ho criticato tante volte il mister, ma l'ho criticato in buona fede, nel senso io credo... A me non piace la fase difensiva, io guardo molti degli aspetti di una partita, ieri per esempio vedendo Juventus-Napoli, allora la Juventus da centrocampo in su è un'improvvisazione continua, ma dietro Allegri è maniacale, triplica. Osimani ieri ce ne aveva tre, a un certo punto lui fa un fallo e viene circondato da cinque ce ne aveva tre da Juventus, perché poi c'è la reazione, cinque ce ne aveva il turno. Karaswelle ne saltava uno, ne aveva subito due. Cioè, allora, io non è che voglio dire Juventus gioca molto speculare, però è una squadra che se vai a vedere l'Inter come Rosa non c'è paragone, eppure è lì, è prima, ora vabbè sta giocando l'Inter. Fiorettina prende troppi gol, ma non dà adesso. E questo prendere troppi gol, col Parma a un certo punto quando io ho visto che partiva Bernabè, ho detto quanti ce ne fa questo? Perché partiva, c'era una frateria. Allora, io al mister dico, c'è un po' di problemi in attacco, magari si può migliorare, lì ci deve pensare anche la società, magari a prendere dei giocatori, diciamo, speculari al gioco di italiano, però dietro chiunque ci sia, cioè cambiano gli attori, ma i risultati sono sempre i soliti, cioè prendi sempre gol. E spesso sono gol che io, a volte sono stato un po' duro, magari ho detto non l'ho visto neanche in terza categoria. Effettivamente spesso si trovano, e tutte le partite, Massimo, chiunque, lo stesso Giulio lo possono testimoniare, il portiere davanti, l'attaccante davanti al portiere, anche sul gol del perentorio 3-0, che Cristian si trova faccia a faccia col giocatore del Parma che gli tira addosso, ma se il giocatore del Parma lo salta o fa il 3-0, lì la partita era finita, e poi gli sarebbero più utile critiche. Allora, io credo che lì deve lavorare lì il mister, non tanto sul discorso offensivo, quello è un'altra parentesi, poi l'apriremo, io per esempio mi è piaciuto il fatto che abbia schierato Christensen e Nzola insieme, però è il vero problema della Fiorentina secondo me, Beltrano e Nzola, che possono coesistere, però non sono rimasto impressionato dall'urlo di Cristens e che ce l'ha ancora l'urlo durante i rigori. È uno sfogo. Io credo gli abbia fatto paura. No, no, è stato piacevole perché comunque se l'è sentita sua, giustamente, perché ha giocato bene, perché anche la parata nel primo tempo supplementare sul diagonale di Mann, se non sbaglio, che fra l'altro io mi segnerei perché non l'avevo mai visto dal vivo, ma che giocatore, perché è entrato in partita a dribbling, palla sempre attaccata al piede, velocità, è uno dei titolari del Parma, però io sinceramente non lo conoscevo bene, devo dire che un giocatore in Serie B così mi sembra un po' strano. No, ma ne abbiamo visti. Che mi dite di Mina, la cantante? No, Mina, Mina, è tu. No, Mina, Angelo. Parleremo dei singoli in modo molto approfondito. Io quando ho visto Mina a un certo punto mi sono girato da quell'altra parte, ho visto ha fatto un paio di svarioni, si può dire, in maniera simpatica, veramente incredibili. Ecco, la Fiorentina è vero, non ha grandi difensori, però prende un po' troppi goli. Ecco, io lavorerei, fossi il mister, sulla difesa, sugli schemi difensivi. Ora non dico di diventare come Allegri, perché Allegri è un maestro proprio sul difendere, ma certamente non puoi prendere uno, due, tre gol a partita, perché l'abbiamo preso, se vai a vedere Vittoria, la Fiorentina ha tutte le partite. Ora, meno male con la Salernitana, ma la Salernitana è poca roba. Però la Fiorentina prende sempre gol e questo può diventare un problema alla lunga. E comunque vorrei aggiungere, sempre rimanendo alla partita col Parma, ovviamente, che, come ho detto prima, il Parma nella ripresa è un po' calato di intensità e questo ha dato una mano alla Fiorentina. Se non fosse calato di intensità? Eh, se non fosse calato di intensità... Ormai, Michela, scusa se ti interrompo, ormai chi gioca con quell'intensità un tempo non dura mai. Non ce la fa, non può. Come faceva la Fiorentina in italiano il primo anno. È impossibile, è matematico. Stessa cosa per il Parma, è andata troppo veloce, poi è vero che ci sono i cambi, però non sono mai come i titolari. E il Parma si è ritirato troppo all'indietro. In Serie A la differenza è quella, prima o poi ti fanno un gol, anche a cinque minuti alla fine te la riaprono. E' stato un po' il problema del Parma di essere andato troppo, però se ti fa il 3-0 la partita è finita. Esatto, quindi ci sono i pari contro, comunque la palla del 3-0 l'hanno avuta, quindi... Sì, sì. Però, Angelo, quanta colpa è italiano se lui, diciamo, per obblighi di rotazioni, di condizioni fisiche, deve schierare ovviamente le seconde linee e poi appunto non sfruttano l'occasione? Io penso zero. È piccola che vi faccio sottolineare due cose. Il campione del mondo del Real Madrid, Cajode, sul primo gol, ha fatto una roba che voi naturalmente lo so che parlate. È così, perché i gol del Presidente della Fiorentina, cari amici, dovevano essere un po' più corretti. Cosa c'è in 3-0 italiano se il terzino fa una roba che la vedi giocata? Perché quello il primo gol lo prende così, dove la palla l'aveva tranquillamente lui, se l'allunga, fa cinciampi, o no? Allora, italiano, cosa c'è? Alla fine ha provato a mettere una squadra, magari sottovalutando, come ho detto prima, il Parma. Ma i gol della Fiorentina, i due gol presi, sono due errori della difesa madornale. Dei giocatori che magari noi, o voi, ritenete bravissimi, sono dei buoni giocatori. Devono crescere ancora, perché quegli errori là, quando li prendi, se li prendi in Serie A con un'altra squadra, fai degli errori 2-0, non la recuperi. E allora, italiano, Giulio, cosa c'entra? Torniamo a mettere una squadra in campo, pensando che con le sue riserve poteva tranquillamente battere il Parma, e invece no, non è andata così. Perché questo è. Poi l'ha cercata di recuperare, semmai c'è un merito, come dice Massimo, che l'ha cercata di recuperare. Ha cambiato, ha cercato di aggiustare la squadra, sicuramente di un livello superiore, un'altra categoria, e l'ha portata a casa. Ma alcuni errori di alcuni giocatori della Fiorentina, che quando parlo dei giovani, e su questo che io critico sempre a lei, che voi lo sapete da una vita, però su una cosa, io sono onesto, lo riconosco, Allegri, i giovani, i tiani liti, bisogna crescono piano piano. Alcuni non possono diventare subito fenomeni. Ci vuole pazienza con i giovani. Insegnarli, quando fanno errori, metti li lì. Perché se tu, un giovane, lo esalti subito, poi leggi il giornale, vedi la televisione, si esalta, pensa di essere diventato patinì. Poi nel calcio di oggi basta che faccia una partita bene. Questo è quello che penso io, capito Giulio? Sì, sì, sì. Cioè, alla fine è italiano, fa sicuro. No, però Cagliode, voglio dire, non gli si può contestare nulla, nel senso che la società ha fatto quello che doveva fare, esplode un ragazzo, oggigiorno bastano tre o quattro partite, e questo sono d'accordo. Però cosa devi fare? In generale, eh? Devi fare, sì, sì, in generale, devi allungargli il contratto, perché diventa subito credibile. Quello non vi è dubbio. Io sto parlando, Massimo, di giocatori. Quando ha stato preso Parisi, che è un buon giocatore, ma non è un giocatore. Qua ha sbagliato cinque o sei partite Parisi. Eh beh, lì però, però ti devo dire la verità, ammetterlo dall'altra parte, gli ha creato un grosso problema. Sì, tu hai ragione. Io sai, Penso, che nel calcio, chi è bravo lo come... Sì, tu hai ragione, però un mancino puro come lui, che si deve adattare dall'altra parte... Tutte cose che hanno una sua logica. Però quello che voglio dire io, io faccio un altro ragionamento. Dico che bisogna non risaltare troppo. Sono bravi, bisogna vederle... Perché una cosa è giocare nell'Empoli, una cosa è giocare nella Fiorentina. Ma quello non c'è dubbio. Sono due cose diverse. Questo ragazzo e cinque partite, che io lo vedo, fa dei disastri in umani. Si dice, Massimo, sì, forse l'ha sbagliato a metterlo sulla sinistra. Ma che uno è bravo. Io quando vedevo Claudio Gentile, Claudio Gentile nasce a sinistra, nasce a te, io ho avuto la fortuna di conoscerlo. Cioè, capisci? Ma tu mi parli di fenomeni? Eh, fenomeni... No, io continuo a dare la colpa italiana sulla difesa, Angelo. Perché allora, io ti racconto questa cosa qua. Non so se l'hai notato. Rugani, che veniva criticato fino all'anno scorso, alla morte, alla Juventus, lui cosa ha fatto? Ha messo la difesa a tre. L'ha messo in aria. Quindi non ha mai, non deve mai fare, per esempio, un uno contro uno in velocità con uno come Osimena o con Carrasveglia. Perché lo tiene accanto a Bremer e a Gatti. Quindi Rugani è diventato uno dei giocatori fondamentali della Juventus. Perché è stato intelligente Allegri, che l'ha messo nel ruolo e nella posizione per non farlo sbagliare, per farlo emergere. Se tu mi metti Parisi, come diceva Massimo, a destra, che è un mancino, mi ha sentito dire un terzino. Ora, lui ha fatto di necessità virtù, è vero. Tutte e due i terzini destri infortunati, prima il brasiliano e poi Dodò e poi Cagliotti. Però, però, sai, io vedo sempre la Fiorentina presa di infilata, in difesa. Non lo so. Mi sembra un caso. Ma è anche un discorso però che non c'è. C'è anche un mancato filtro centro campo. Anche Massimo. Gli attaccanti, delle volte, i difesori, si vedono arrivare due esterni che si buttano nel Parma, accompagnava con 5-6 giocatori sempre. Parma sembrava la Fiorentina. La Fiorentina quando gioca con corsa, personalità e qualità. Se Parisi non ha l'aiuto di Mandragora nell'occasione anche del gol è difficile difendere. Assolutamente. Però, allo stesso tempo, Massimo, visto che ti hai giocato, te lo chiedo a te, quanto è difficile per un calciatore far bene e convincere si giochi una partita ogni 15 giorni. Penso ai vari Mandragora, Barac, lo stesso Mina, Infantino. È difficile, hai ragione, però Mandragora secondo me non deve avere queste ansie, nel senso che comunque l'anno scorso era titolare, per tanto tempo è stato titolare, dunque l'allenatore lo conosce e non ne mette in discussione le qualità. In questo momento devi essere bravo, non è facile, ma devi essere bravo a sfruttare le poche occasioni che ti vengono date e devo dire che nell'ultima, poi per dirti se Mandragora fa il gol a Milano, quell'azione sfortunata, comunque gli cambia anche il periodo, ci vuole anche fortuna nel calcio come nella vita, però in questo momento Mandragora è un giocatore che incredibilmente quando scende in campo secondo me ha avuto un'involuzione pericolosa per lui, perché non è più tranquillo, non è tranquillo, mentre Duncan quando gioca secondo me è molto più solido e molto più giocatore. Ecco Michela, invece quanto e com'è cambiata la Fiorentina quando è entrato in campo Arthur? Arthur l'abbiamo sempre detto, dai, Arthur è la testa della Fiorentina, nel senso che da lui passa il gioco, passa la ragione e quindi dà equilibrio, dà ritmi giusti, insomma, è un giocatore secondo me di cui la Fiorentina non può fare, questa Fiorentina non può fare a meno, è chiaro che non le può giocare tutte, perché non è che può giocare tutte le 50 partite che ci saranno alla fine, dall'inizio del campionato alla fine della stagione, scusate, e quindi è chiaro che anche lui ha bisogno di rifiatare ogni tanto ed è ancora più chiaro che magari l'italiano cerchi di farlo rifiatare contro avversari che magari si possono ritenere più alla portata, però poi alla fine quando entra in campo lui fa la differenza e si vede, cioè è un centrocampista di quelli che piacciono a me, io insomma sinceramente è uno di quei giocatori al quale non rinuncerei quasi mai. A me è piaciuto subito quando la Fiorentina, io perché ho detto un voto alto all'inizio al mercato della Fiorentina? sui primi due numeri Parigi e Arthur, io dissi se continuavo a Fiorentina è un mercato suntuoso, poi dopo sono cominciati ad arrivare ai giocatori un po' più, però ecco Arthur era il giocatore che mancava per il gioco di italiano, ora è diverso lui, Massimo lo può testimoniare rispetto a Torreira, fa un ruolo un po' diverso, diciamo è più mezzala Arthur, si è adattato anche a fare il regista, però Arthur secondo me può giocare anche un po' più avanti, Torreira è un giocatore che nasce più diciamo dietro le punte e poi si è adattato a fare il regista, comunque con italiano se non è uno a centrocampo con i piedi buoni diventa difficile. Ecco parleremo dei singoli, adesso però ci dobbiamo fermare per qualche minuto, rimanete con noi perché poi inizieremo la disanima appunto di tutti i giocatori che sono stati protagonisti anche di Fiorentina Parma, tra poco. COOP è felice di annunciare la nascita degli spesotti. La nuova linea con la qualità COOP super conveniente con ben 270 prodotti, anzi 271. Vieni a conoscerli tutti. La COOP sei tu. Come vorresti che fosse il futuro? Lo abbiamo chiesto a chi dovrà viverlo e costruirlo giorno per giorno. Noi di Estra ascoltiamo questi desideri e li trasformiamo in progetti, chiedendoci quale pianeta vogliamo lasciare alle nuove generazioni. E la nostra risposta è quello che vorrebbero. Si può fare una poesia che parli di risparmi d'energia. Scopri come? sul sito bilancio di sostenibilità punto estra punto it. Musica 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 C'è l'influenza da principessa? E' il raffreddore hard rock. Musica! Vivin C agisce rapidamente contro il raffreddore e i primi sintomi influenzali con vitamina C per le difese immunitarie. per i tuoi E.C. Puoi provare Vivin C. Naso chiuso prova acqua di Sirmione scioglie il muco libera il naso idrata la mucosa elimina virus e batteri acqua di Sirmione il più consigliato in farmacia è da sempre garanzia di efficacia 100% naturale acqua di Sirmione una vera forza della naturale per i suoi E.C. per i suoi E.C. o i suoi E.C. di Sirmione E allora andiamo a parlare un po' dei singoli della Fiorentina Ci siamo lasciati parlando di Arthur Prima di andare sui singoli che hanno giocato la gara contro il Parma Voglio restare sul brasiliano con Angelo Pollina Ad oggi Arthur a 20 milioni È a sconto? Un prezzo giusto? O è stra pagato? Ma io se la Fiorentina ha i tassi 15 devo lasciare uguali Cioè io sono tranquillo, sono contento che gli amici della Fiorentina lo vedano in questa maniera Ma al di là dei soldi che ha bisogno la Juventus Però come giocatore il prezzo del cartellino è giusto? Secondo me va bene, stia a Firenze, 15 milioni ne lo darei Perché un giocatore ci sta bene a Firenze, a Firenze può fare il fenomeno Ormai non si è visto nelle grandi squadre, non tiene il passo delle grandi squadre Ragazzi ci sono le categorie per giocare nelle grandi squadre Lui è vero che ha avuto gli infortuni, tutta una serie di scusanti li ha avuti Però io vorrei ricordare, questo è passato, Barcellona, Juventus, Liverpool E tutte e tre alla fine portava le borracce con l'acqua, con il tè Barcellona ha giocato, prima di andare alla Juventus Poi hanno fatto quell'intruglio con Pjanic perché l'avevano strapagato, l'avevano visto in Brasile Io dico che il campionato brasiliano è un ottimo campionato ma un po' ciccenze Perché l'ha marco a 30 metri, l'hanno visto a 19 anni, un'annata benissimo, l'hanno pagato 120 milioni Poi sono accorti che avevano buttato via soldi, facciamo una cosa, mettiamoci d'accordo con la Juve Facciamo una pastetta, no? Qualcosa hanno fatto E sì, insomma, Pjanic c'è 60 milioni, lui 70, lo capisci, Pjanic c'è a fine carriera E hanno cercato di sistemare il bilancio tutti e due Perché la verità è questa, perché noi non dobbiamo dire ragazzi L'ha portato alla Juve, alla Juve è stato due anni in disastro Perché perdeva, siamo andati fuori in Coppa per colpo di Lussua due volte ragazzi Io vorrei ricordare il gol che abbiamo preso quando ha dato la palla indietro Perché lui giocava tra la difesa, dando la palla indietro, perdendo la palla Siamo andati due volte fuori dalla Coppa, sono soldi per una squadra Poi è andato al Liverpool, anche lì si è fatto male Liverpool non può giocare nel Liverpool, è tutto nato Allora, va benissimo Vittoria quello che tu dici Per Firenze va benissimo, io fossi la Juve, non 20, 15 Lo darei tranquillamente, qual è il problema? Un altro protagonista invece della vittoria contro il Parma è stato sicuramente Christensen Allora chiedo a Maurizio, questo giocatore se davvero dovesse far bene anche in Europa Può insidiare Terracciano per la titolarità? Terracciano per adesso è andato molto bene nella Fiorentina Ha fatto già un paio d'anni che sta facendo delle grandi partite Io non so ora se lo può insidiare Però Christensen devo dire che a me nelle prime uscite non aveva convinto affatto E invece devo dire che col Parma è stata un po' la sua partita È stato l'eroe del passaggio del turno con i Parmenzi Però ecco, da lì a dire Terracciano, Terracciano ha sicurezza Devo dire che io avevo un po' criticato la società perché non aveva preso un numero uno Terracciano detto anche da Giovanni Galli e da tanti altri exportieri di valore È il migliore dei secondi Però si sta dimostrando nella Fiorentina di fare grandi prestazioni, di essere una sicurezza È spesso e volentieri ha salvato il risultato Quindi diciamo che Christensen lasciamolo crescere con calma Ha avuto la sua serata di gloria Adesso non gli mettiamo troppe pressioni, aspettiamolo E poi vedremo cosa succederà in futuro Ecco Michela, forse è presto per dire chi sarà il titolare, il portiere titolare di questa Fiorentina Però quello che è sicuro è che Christensen ha iniziato a dare molta più sicurezza al reparto Beh questo sì, questo è importante, l'abbiamo sempre detto anche all'inizio della stagione Che Christensen ovviamente è arrivato, è straniero, aveva bisogno di tempo per familiarizzare con il campionato La Serie A, con comunque l'Italia, con la lingua, con i compagni e tutto quanto Quindi il fatto che col Parma abbia comunque sfoggiato una prestazione importante Non solo per quanto riguarda i calci di rigore, anche se poi quelli sono stati fondamentali e decisivi Quindi è normale, però anche durante i 90 minuti, anzi i 120 minuti Abbia comunque fornito delle buone parate Abbiamo detto anche prima contro Mann ha fatto un'ottima parata Credo che sia stato importante per lui principalmente Perché comunque ha dato modo anche alla gente che era un po' scettica Noi compresi Tutti ci siamo fatti delle domande Di mettere in risalto quelle che sono le sue qualità tecniche E poi vediamo, però è chiaro che adesso non bisogna Prima magari non si doveva, diciamo, addossargli troppo la colpa di essere arrivato in una piazza Per così chissà per quale motivo Adesso non dobbiamo esaltarlo troppo Dobbiamo dargli altre opportunità, ovviamente, per mettersi in mostra Sicuramente le avrà Sono convinta che le avrà nelle coppe, più che altro Essendo comunque un giocatore straniero Un giocatore che viene dall'estero E poi, però, in questo momento il portiere isolare Credo che rimanga a Terracciano Però è una cosa positiva che abbia dimostrato di dare delle garanzie Questo sì, con la partita col parla Importante era vedere dei miglioramenti Era vedere dei miglioramenti I miglioramenti si sono visti Quindi, insomma, speriamo che migliori ulteriormente Che possa mettere in difficoltà anche l'allenatore Anche se io sono una di quelle che quando Che pensa che ci sia un portiere titolare È una seconda scelta, va? La riserva è brutta Intanto c'è un check del Vare in corso Per un possibile fallo su Lautaro Martinez Massimo, ti vedo Fa uno scatto Per prendere la posizione Non lo sapete che glielo dà Perché è fuori gioco No, 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 no No, no, non è fuori gioco No, no No, Angelo, non è fuori gioco Fuori gioco, no E comunque lo tocca Si lascia un po' andare però In piena velocità Guarda, fa una giocata Se non è fuori gioco è rigore No, no, è rigore È rigore Massimo, apriamo una piccola Una breve parentesi Rigore Rigore quindi per l'Inter Al trentaseiesimo minuto L'Inter-Udinese Che partita stiamo A che partita stiamo assistendo? Allora, una bella partita Giocata con grande intensità L'Udinese come sempre Si sta difendendo bene Grande squadra Da un punto di vista fisico Dunque l'Inter Meriterebbe il vantaggio Perché ha avuto già A parte un pallo Diverse occasioni Però l'Udinese Nelle ripartenze Ha avuto Altre tante situazioni Di possibile Pericolo per l'Inter Chiaro che adesso Questo rigore potrebbe Cambiare questa partita Però ecco Non è facile per l'Inter Perché l'Udinese È una squadra che Soprattutto quando gioca fuori casa E deve difendersi Si fa valere Ecco Ciacciallano A blu pronto a tirare Il calcio di ritardo Dunque fa un movimento Da prima punta Da prima punta Lautaro Clamoroso Clamoroso Tanto giallo All'allenatore Che ha a favore Un rigore Forse Voleva l'esposizione Ma una capolata Seguiamo in diretta Ciacciallano Per vedere se Riuscirà a firmare L'1-0 Sì Il possibile Invantaggio Angelo già La buffata La buffata Non c'è partita ragazzi Se no non scherziamo Via Ecco la rincorsa Di Cialanoglu Gole Vantaggio dell'Inter Devo dire che lui A parte c'è un piede Li calcia divinamente Perché Forti e tagliati A fil di palo Meglio di Nico González Non ha mai sbagliato Un rigore Credo Meglio di Nico González Ti piacciono i rigori Di l'argentino Nico lo tira bene Perché Nico Addirittura Spiazza il portiere Lui parte convinto Sull'angolo No E Vedi Talmente forte Che anche se il portiere Intuisce Non la può prendere Perché lui calcia Forte e tagliato Ora Ad esempio L'altra sera Questo non è neanche Tanto angolato Rivisto L'altra sera Sottilla Non lo ha calciato bene Il rigore Il portiere del Parma L'aveva Eh sì Però gli altri rigori Tutti belli No 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 Ma è bravo Sottilla a prendere il pallone Perché non era Un rigore facile Pesante Come rigore Un rigore del novantesimo Con una qualificazione in Bico Anche se non è la finale Coppa del mondo Però È importante Quindi Inter 1 Udinese 0 Ritorniamo però a parlare Dei singoli della Fiorentina Vengo da te Maurizio Ieri Mina Ti faccio un nome Lo sapevo Lo sapevo Lui Giusto così Una Mina Veramente C'è Hai visto quando Si cerca di evitare le Mine Perché si salta per aria Ecco Mina vacante C'è Proprio C'è Mina Ora Con tutto rispetto Io addirittura Angelo E lì Angelo ha ragione C'è Lo guardo la notte Vi rendete conto Mi sveglia alle 2 Per guardare la Colombia Per vedere Mina Ecco Però Qualche problemino Sì Ma no Ha ragione Angelo Ha chiamato il 118 Ora lo chiamo direttamente io Il 118 La prossima volta Che mi metto a vedere Mina Con la Colombia Alle 2 di notte Chiamo io direttamente il 118 Sì però Secondo me Non ce la racconti tutta No Non ti puoi svegliare O c'è una partita di NBA O c'è qualche altra cosa da fare Però Per soffri di insonnia Per prendere sonno Si guarda la Colombia Vedi Massimo Massimo Un commento sulla prestazione È un giocatore Con tutto il rispetto In questo momento Non si può schierare Non si può farlo giocare Soprattutto in un campionato O comunque In una compagina fiorentina Che ha delle ambizioni A parte Secondo me Non giocherebbe nemmeno In altre squadre È in ritardo di condizione È lento È spaisato Non sa spesso e volentieri Cosa fare È proprio un imbarazzo totale Con tutto il rispetto Io penso che questo giocatore Non sia adatto A giocare in questo momento Ora Ripeto Il calcio sudamericano Soprattutto la Colombia Magari È un calcio diverso Una squadra come una fiorentina Che ha bisogno di certezze dietro E con gli attaccanti Ci sono veloci Soprattutto quelli del Parma Praticamente Li potevano fare Il giro tondo intorno Oltre quattro volte Lui Si accorgeva nemmeno Di chi era successo Quindi anche se non te Michela Non è un problema Diciamo Di adattamento Al calcio italiano Di condizione fisica Ma proprio di qualità Del calciatore Ora Io non lo vedo Di notte No Te dormi Alle due dormi Quindi io l'ho visto giocare Praticamente solo Quelle poche volte Con la maglia della fiorentina Sì alle due dormo Ma pesantemente Da un po' Però al di là di questo Penso che Insomma Sicuramente La condizione fisica Sta iniziando Piano piano A raggiungerla Adesso Perché è arrivato Si è fatto male E comunque veniva Da un periodo Anche prima di arrivare A Firenze In cui aveva giocato poco E tutto quanto Quindi Io Qui è italiano Che deve riuscire a capire Se questo è un problema Di condizione fisica E quindi magari Di farlo giocare Spezzoni di partite Magari quando le cose Sono Vanno bene Per poi Insomma Vedere se Se migliora Oppure È un problema Di Campionato Che non è Adatto A quelle che sono Le sue qualità Io sinceramente Non credo che Che sia un giocatore Fondamentalmente adatto Alla Serie A Però Magari Magari Mi sbaglio Io Avrei preso Altri tipi di giocatori Per rinforzare Per rinforzare Ma sono 4 anni Che non gioca Esatto A uno storico Degli infortuni Penso che Andare a prendere Un giocatore Che aveva Appunto Delle difficoltà fisiche Perché era stato Fermo per tanto tempo Arriva a Firenze E si fa male Un'altra volta Questo sicuramente Non lo ha aiutato Però tu Vendi Igor E mi prendi Mina Diciamo che Secondo me Qualcosa manca Anche perché Nell'Everton Comunque aveva fatto Molto bene Il problema è che Il calcio inglese è diverso Perché sai che vanno Gli esterni vanno E cross Ma che gol Scusa Marco Che gol ragazzi Non sono perso Cosa fa Cosa fa l'Udinese Su questo gol dell'Inter No c'hai ragione Però Però in questo momento Sono ingiocabili davvero L'Inter ragazzi Dai Guarda che gol fa Ora c'è un mezzo rimpallo La palla finisce a lui Chiaramente gli esterni Dell'Inter Sono sempre lì In fase offensiva E calcia Magistralmente Collo esterno Non ci può arrivare No ecco l'Inter Quando gioca Chiedo scusa Che vi ho interrotto No dicevo L'Inter Quando gioca in questo modo È veramente devastante L'unica cosa Magari vediamola Durante il proseguo Il campionato Perché sì Qui comunque c'è Una difesa Della retroguardia Dell'Udinese No La palla L'Udinese Comunque C'è la Noglu Che gli dà questa palla Che entra sia nel gol E poi guardate come la calcia La palla non gira neanche E quindi Inter 2 Udinese 0 L'Inter L'Inter per adesso Non mola Però insomma C'è questo bel testa a testa Tra Juventus e Inter E ritornando Appunto per Mina Quando era a Leverton Io me lo ricordo Era un giocatore Che comunque Di testa Soprattutto sui cross Delle squadre avversarie Diceva la sua Però il campionato inglese È completamente diverso Da quello italiano In quello italiano Ci sono molte meno Diciamo Cross dalle fasce Si tende più magari A crossare Da centro campo E spesso Sono gli attaccanti Che giocano In maniera individuale Il calcio inglese È completamente differente Si va sulle fasce Si crossa Quindi Diciamo uno come Mina Ci può stare Anche Milenkovic Per esempio Che è bravo di testa Soprattutto in fase difensiva Secondo me Il campionato inglese Giocherebbe bene Quando vai però In un campionato Come quello italiano Che trovi magari Un Lautaro Martinez Che ne so Un Chiesa Un giocatore Che ti salta più e pari Mina Che è 1,90 Sopra 1,90 Lento L'abbiamo visto col Parma Quando trovava Bernabè Non lo vedeva Non importa neanche andare A cercare Chiesa O Lautaro Si Ho fatto Abbastato Bernabè Ecco Per fare Per fare un esempio Così No ma Non è Secondo me Insomma È stata una scelta Forse Non troppo ponderata Diciamo Puntare su Mina Dopo aver ceduto Igor Che con tutti i rifetti Che poteva avere Comunque Era Evidentemente C'era anche una questione Legata Una questione economica Massimo ha detto una cosa Cioè viene da un infortunio importante È stato molto fermo Giocatore che era Di più che una scommessa Quindi Insomma Vabbè L'abbiamo visto Certo però Metterlo in campo In una partita così Faccia un freddo L'altra sera 3-0 Inter No vabbè Stanno dilagando Dilagando Mamma mia Ragazzi stanno dilagando Cioè L'Udinese Loro stanno giocando bene L'Udinese si può Squagliare Ma perché comunque T'arrivano da tutte le parti È vero T'arrivano da tutte le parti E anche questo Turam Ora non è che non vogliamo parlare Però Questo Turam Cioè è andato via Lukaku hanno preso questo giocatore A parametro zero E mi sembra che sia il sesto O settimo gol Sesto Poi non aveva Insomma Nel corso della sua carriera Segnato Non è mai stato un bomber Non è mai stato un Ecco È vero È vero Bomber Questo forse anche Comunque dicevo No Mina anche l'altra sera Forse la partita meno indicata Per metterlo in campo Perché comunque Si vede che è lento Si vede che è in ritardo Uno mi dice Eh ma siamo a Natale Eh vabbè La preparazione Però gli infortuni Li ha avuti lui Dunque una partita così Io ad esempio Sarei partito Magari con una coppia Di centrali diversa Ecco Mina L'avrei messo dentro Casomai Il secondo tempo Qualora il risultato Fosse stato positivo Diciamo che è andata bene Perché 9 volte su 10 Quella partita lì Anzi 10 su 10 Non la ribalti mai E bisogna fare i complimenti A Sottil Lo so che volevate arrivare Stai anticipando Tutti tu stasera Eh no Se no poi dopo No Stasera Stasera vorrei venire Al vostro posto No perché ha ragione Poi ci arriviamo Perché io qua ho sentito Qua Vici Studio Che è uno dei giocatori Più da Fiorentina Doveva andare via Ragazzi Ecco Apriamo quindi l'argomento Legato a Sottil Due gol Nelle partite Più lassi Io guarda Posso partire Io sono una di quelle Che ha detto Che questo giocatore È un giocatore Che l'anno scorso Aveva fatto intravedere Qualcosa di buono In realtà quest'anno Non l'abbiamo mai visto E non è un giocatore Che incide O almeno Fino ad ora Non ha inciso Positivamente È un giocatore Che ha degli alti e bassi Secondo me Anche a livello Psicologico Detto questo Sono molto contenta Che contro la Salernitana Abbia fatto quel gol E soprattutto Non solo quel gol Ma anche quella prestazione È vero la Salernitana Tutto quello che vogliamo Però per un giocatore Che era comunque sottotiro Non solo da me Ma da tanti Quindi fare una prestazione così Ecco Quello è il sottil Che fa comodo La Fiorentina Perché un giocatore Che salta all'uomo Un giocatore Che arriva sul fondo E mette la palla in mezzo Un giocatore Che vede Che comunque calcia in porta Come ha calciato Trovando un gol splendido Un giocatore Che con il Parma Si incarica Di prendere la palla E battere il calcio di rigore È fondamentale Decisivo Per non andare fuori Dalla Coppa Italia Insomma Quello è il sottil Che piace A me E che piace a tutti E che tutti vorrebbero vedere Perché è quel giocatore Che può fare la differenza In questa Fiorentina Ma se l'abbiamo sempre detto Il problema del sottil Era un problema Soprattutto mentale Perché le doti tecniche Le abbiamo sempre riconosciute Però un calciatore Non segna mai Ora ha fatto due gol Ma quant'era che non segnava? Più di un anno Mi sembra In Conference League Ha fatto gol Perché ha fatto tre gol Uno e uno Da uno come lui Che ha quelle doti tecnici Si aspetta molto di più Quindi L'abbiamo criticato molto Io sono stato uno di quello Lo ammetto Ma perché mi aspetto Di più da lui Uno che salta l'uomo Arriva davanti al portiere Sbaglia il passaggio O la tira fuori Ed è successo tante volte Quest'anno E anche la scorsa stagione Io spero Che questi due gol Che ha fatto Con la Salernitana E col Parma Lo abbiano bloccato Psicologicamente Gli abbiano dato fiducia Perché il giocatore Tecnicamente c'è Doveva trovare Forse un po' di fiducia Speriamo Adesso Abbia intrapreso Una strada Che lo poterà Essere un giocatore fondamentale Angelo Te l'hai sempre detto A livello di qualità Dopo Nico González Tra i titolari E lui Il secondo Io l'ho detto Perché guardo Con più di stacco Come da tifoso Qualità dei giocatori Nico González È giocatore Di un livello superiore In questa Fiorentina Questo mi pare evidente Poi c'è Buonaventura Che anche lui Non è al livello di Nico González Però a Firenze Si è rigenerato A Milano Era un po' Giocatore Che sembrava Passi finito Ma sottile Se devo guardare La qualità Non entro in merito A problemi Che non conosco Però se guardo La qualità Sicuramente È un giocatore Di quelli che hanno la qualità A me piace anche Iconé Però Iconé Non riesce per esempio A esprimersi Come si esprimeva in Francia Ma sottile È un giocatore Che ha delle qualità Non a caso Lo difeso In qualche modo Diamo gli tempo È giovane Sicuramente poi Come giovane Ci sono che ha La testa che matura prima Che poi non lo so L'ambiente Sai bisogna starci dentro Nel calcio Quando parlo Dico Non bisogna parlare solo Di pallone Ma di calcio Ecco Questa è la differenza Perché il calcio È un po' più complesso Che parlare di pallone Vedi solo Vedi il gioco di calcio E tutti in Italia Parlano di pallone Una società Un giocatore Bisogna vedere anche Le condizioni Quello che succede Nella società Il clima Che si viene a creare Non lo so L'ambiente che pratica Ci sono tante componenti Ma sicuramente Su una cosa Sottile bisogna dire La qualità A livello calcistica C'è No Ecco Massimo Nelle scorse giornate Insomma Negli scorsi giorni Avevamo parlato Di una possibile partenza Di Sottile Già forse a gennaio Ad oggi Se alla società Se tu fossi la società E ti arrivasse Un'offerta Una buona offerta Per questo giocatore Ecco Cosa faresti? Allora No Perché Allora Intanto Va detto una cosa Noi Non è che possiamo Prevedere il futuro Noi analizziamo sempre L'ultima partita No O le ultime due partite Io ad esempio Quando andavo a vedere Sottile Che giocava nella primavera Dicevo Per me Dopo Chiesa C'è Sottile Come bravura Come qualità Come possibilità Poi Evidentemente Non ha la testa Di Chiesa Non è riuscito A fare quel Quel salto di qualità Che gli sarebbe Che avrebbe potuto Appunto portarlo A quei livelli lì Però Noi dobbiamo stare A quello che si vede Quello che si vede È un ragazzo Che purtroppo Non riesce Ad esprimersi Nelle ultime due partite Sinceramente Ha fatto gol Assist Per Buonaventura Per il Poi L'assist Per Anzola Che poi è stato Bravo Anzola Però l'assist È arrivato A lui Il gol Su rigore Questo è il Sottile Che la Fiorentina Non può permettersi Di dar via Perché è un giocatore Ancora Con tante di quelle Potenzialità Inespresse Che sinceramente Io fossi la società Ancora Vorrei scommetterci Anche perché Chiudo Da quella parte Brecalo Che giocatore è Voglio dire L'allenatore Punta tanto Su Sottile Se Sottile gioca così È sempre titolare Esatto Tra l'altro Citavi il gol Di Inzola Maurizio Il gol dell'angolano L'altra buona notizia L'altra bella notizia Sì 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 No Un'altra notizia Cioè Io credevo D'averli persi Sottile Anzola Tanti altri E invece Sottile Calma No 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 Io credo D'averli persi Perché sei Siamo a due vittorie Contro l'ultima in classifica E la prima in Serie B Hanno fatto bene Credevo D'averli persi No Io credevo D'averli persi Nel senso che Non vedevo Nemmeno speranze Perché Anzola Anche il primo gol Che ha sbagliato col Parma A inizio primo tempo E poi è stato Però Maurizio Scusami se ti interrompo Guarda che lì Non è stata colpa sua Lì il difensore Fa un anticipo clamoroso Sì 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 È stato bravo Però Lonzola Massimo Se te te lo ricordi Non lo spezia Più cattivo ti dici Era più cattivo Entrava portava dentro Difensore Ok ok Lui secondo me Però questo gol Io credo che l'abbia Lui ha bisogno di ritrovare La fiducia Certo certo Soprattutto metà Un po' come Sottile Sì sì Io credo che Tu hai giocato a calcio Non la testa In un calciatore In uno sportivo È fondamentale Certo Cioè di dire Magari come Sinner Batto Diokovic una volta Allora lo posso battere E lo ribatto anche la seconda Certo Magari Lonzola non trovava il gol Come Sottile Magari faceva tutto bene Fino a che Non arrivava in aria E poi lì sì Ora che hanno cominciato a segnare Gran gol tra l'altro Lonzola col Parma Che è stato poi Diciamo la carica No? Per riuscire ad arrivare Al pareggio E poi alla qualificazione Queste cose secondo me Per il morale Fanno bene Quindi magari Chissà Lonzola Con Beltran Io spero che questa cosa sia Riproposta da italiano No No Assolutamente Massimo scoda la testa Ma non è Io Ha giocato In conferenza stampa Italiano Post partita Che probabilmente Rivedremo Ma non li rivedremo insieme Ma io non ci vedo dall'inizio Stai sotto 2 a 0 Dunque io spero di non rivederlo mai Ecco Ma sull'1 a 0 Lui non lo farà mai Sullo 0 a 0 Per partire No Io sai Sono un Come si dice Un romantico No Come mi piaceva Quando giocavate tutti insieme Teba Di stuta Baiano Io ero Sono un po' così Dissi poco Ma delle volte Crei anche confusione Perché ti sei un grande Intenditore di pallone Giustamente Perché pallone 7-8 Si gioca a circensi Che se frega La tattica Si però Cioè il calcio Che se ne frega Se si prende gol Quello è bello A circo è bello Gli equilibri però spesso Quando ci sono i grandi calciatori Perché il Brasile Il Brasile ha giocato anche Ha vinto un mondiale Con Ronaldo Anche nel 1982 Il Brasile aveva vinto Livaldo 24 attaccanti Romario Ma hanno vinto un mondiale Abbiamo fatto un vestitino Eh ma nel 2002 Si sentono male ancora oggi Nel 2002 Hanno vinto il mondiale Con questi giocatori Quindi non è vero Ma ti ricordo 82 Che ci avevano I fenomeni Che ci avevano veramente I fenomeni Peccato l'avevano tutti davanti Di dietro Erano tutti degli vini Che noi gli abbiamo fatto un vestitino Dando spettacolo A me A me piaceva il caccio Gli ultimi 20 minuti Giocavi con Quame Infantino Zola Beltran E tante volte Andava a fare il trequartista Anche Sì Andava A supportare la fase offensiva Arthur Che giocava molto avanti Che si scambiava Perché ha giocato col doppio play No Ma hai vista Una Fiorentina così offensiva Ma delle volte La confusione Questo Glielo devo riconoscere A Mourinho Mourinho Una volta ho sentito L'intervista Che ha detto Io butto dentro Tutti i difessori Che vanno in difficoltà Perché La difesa Prima giocava a tre Magari a quattro Si deve mettere a cinque Dunque Va in difficoltà Poi chiaramente Si sta parlando anche Ma queste soluzioni Secondo me Delle volte Sono un po' di disperazione Anche Sì Però Le devi provare Quando hai giocatori forti Mourinho Lo stesso Mourinho Quando allenava l'Inter Detto il rete A volte giocava con Tutti quelli forti Giocava con Eto Gli faceva tutta la faccia Cioè Eto faceva Partiva A fare il terzino Ma l'Inter ha vinto una Champions Con Eto il terzino Io dico Ragazzi Secondo me Quando hai giocatori bravi Poi li puoi mettere anche Diciamo Ma la Juve C'era Manzo Che faceva I giocatori bravi Sono Zola e Beltran No A me Beltran Continua a dire Che è un giocatore Che piace Deve trovare ancora la posizione Gliela deve trovare L'allenatore In questo caso Però a me Beltran piace Zola è più centravanti Non sono due Due giocatori Che possono Diciamo Ricoprire lo stesso ruolo Il centravanti centrale Centravanti vero È Zola Beltran Non è un centravanti L'ho detto tante volte Lo puoi mettere Come falso Noeve Ma è un giocatore Che secondo me Può giocare In tutti i ruoli Fuori che Centravanti L'abbiamo visto La Juventus Lo mise In mezzo A tre giganti Che sono I tre I tre centrali Della Juve Non hanno Un tocco palla Quindi ecco Al volo volevo dire Zola ha fatto Tre gol Uno in Coppa Italia Uno in Coppa In Conferenza E uno in Campionato Quello in Coppa Italia E quello in Campionato Sono stati due gol bellissimi Tutte e due Detto questo Domani sera a Roma Chi gioca? Ne parleremo Ora abbiamo parlato Tanto di Fiorentina Tra poco Parliamo invece Di Roma Fiorentina Lo faremo anche Con le parole Dei due tecnici Prima però Una piccola pausa Unastico pausa Coop è felice di annunciare la nascita degli spesotti. La nuova linea con la qualità Coop, super conveniente, con ben 270 prodotti, anzi 271. Vieni a conoscerli tutti. La Coop sei tu. Ogni giorno nel tuo lavoro prendi decisioni importanti, per te e per i tuoi pazienti. Assicura la tua vita professionale con il pacchetto Sicurezza ANAO. Fai la cosa giusta. Iscriviti alla ANAO Assumed. Iscriviti al nostro canale. Iscriviti al nostro canale. Da tre generazioni portiamo sulle vostre tavoli i profumi e i sapori della tradizione natalizia toscana. Calore, dolcezza e passione sono gli ingredienti scelti per regalare un sorriso alle persone che ami di più. Perché essere buoni è un mestiere di famiglia. Grazie alla nostra competenza tecnica mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza e professionalità per supportarvi e ad assistervi durante il percorso volto ad accedere al cosiddetto super bonus con detrazione del 110%. Dagli impianti elettrici agli speciali, dall'efficientamento energetico passando per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e wallbox, C&C System è in grado di fornire il giusto supporto per ogni esigenza di privati, imprese e condomini. Contattateci per informazioni. È arrivato dunque il momento di parlare del big match di domani sera che andrà in scena all'Olimpico di Roma, Roma-Fiorentina. Una partita molto importante per la squadra di Vincenzo Italiano ma anche per quella di Murigno perché con la Fiorentina si apre un ciclo di partite impressionante perché la Roma avrà la Fiorentina, poi il Bologna, Napoli, Juventus, Atalanta, ricomincerà il girone di ritorno di campionato contro il Milan e poi nel mezzo ovviamente ci saranno gli ottavi di finale contro la Cremonese di Coppa Italia e l'ultima partita di Europa League contro lo Sheriff. Massimo vengo da te, quindi facciamo una panoramica di questa partita. Bella partita, nel senso importantissima perché ci si gioca veramente tanto, anche se manca ancora tanto, però quest'anno abbiamo visto che davanti Milan e Napoli per tanti motivi steccano. Dunque la Roma ha l'obbligo di provarci, ma tutti l'avevamo detto più o meno all'inizio dell'anno, avendo davanti quei due giocatori poi hai un'arma in più. Non è una squadra che gioca bene, però è una squadra che non esce mai dalla partita. Ha un allenatore che sappiamo come riesce a preparare le partite, cosa riesce a trasmettere, cosa riesce a trasmettere anche al di fuori del suo spogliatoio e dunque grande attenzione perché poi c'è un pubblico clamoroso sempre sold out, dunque trascinati anche da questo pubblico. Sarà una bella prova per la Fiorentina, ma io mi aspetto la grande Fiorentina domani sera. Mentre col Parma si è sofferto, per tanti motivi che abbiamo analizzato, domani sera mi aspetto la Fiorentina perché la Roma comunque ti fa giocare. La Roma è un'altra squadra che è un po' tipo Juve, non pensa molto al gioco, pensa più a vincere la partita, non che la Fiorentina non pensa a vincere la partita. Hanno due mentalità diverse anche. Sì, mentalità diversa, cerca di essere, subisce la partita e poi dopo ha i giocatori per poterla vincere. Ecco, da questo punto di vista magari senza lasciare quegli spazi che abbiamo lasciato nel primo tempo col Parma, la Fiorentina mi immagino che domani sera per caratteristiche andrà lì e farà la partita. Ecco, andiamo, non so se siete d'accordo, però io andrei a sentire le parole di Vincenzo Italiano che ha parlato oggi ai microfoni ufficiali del club per capire anche magari come proverà ad impostare la partita di domani sera. Siamo alla vigilia di Roma-Fiorentina, domani sarà una sfida delicatissima. La Roma è al quarto posto con un solo punto di vantaggio proprio sulla Fiorentina. Quanto pesa questa partita? Partita importante, importante per entrambe le squadre, ci ritroviamo in zone alte di classifica e chiaramente sono punti importanti, punti importanti per chi otterrà questa vittoria, per fare un bel balzo in avanti. Quindi anche noi ci teniamo a far bene, sappiamo di andare ad affrontare una squadra di altissimo valore, di altissimo livello, però siamo riduci da qualche buon risultato, qualche ottima prestazione, quindi dobbiamo cercare di avere quella continuità che spesso ci manca e domani in un match così difficile cercheremo di dare quel balzo da punto di vista mentale che può darci davvero tanto per quanto riguarda la classifica. La squadra viene da 120 minuti, molto dispendiosa in condizioni atmosferiche difficili, ne ti racconto per domani sulle sue scelte? Abbiamo avuto questo turno di Coppa, siamo contenti di aver superato il turno, è stata una partita che alla fine si è rivelata tosta, dura, sono stati 120 minuti davvero faticosi e quindi abbiamo da gestire un po' di ragazzi che devono smaltire questa fatica. Vediamo domani, ma come sempre abbiamo dimostrato di avere a disposizione un gruppo che può e sa di essere un gruppo che viene coinvolto, che quando viene chiamato in causa dà sempre il massimo e domani sono convinto che chi andrà in campo darà filo da torcere a questa Roma. Parliamo anche di Nico, come sta? Sarà disponibile per domani? Nico rientra, è tra i convocati, ha fatto qualche giorno a parte, è differenziato, oggi ha un po' accelerato, sta discretamente bene, vediamo domani, quegli allenamenti che non ha svolto con la squadra non gli hanno fatto perdere condizione, quello sicuramente perché di condizione ne ha, però vediamo, vediamo perché abbiamo ancora tanti impegni, tante partite e gestiremo domani con calma il tutto. Ultima domanda, quanto può pesare il fattore ambientale in una partita così delicata come quella di domani? Sappiamo di andare ad affrontare una squadra che è trascinata dall'ambiente, dal pubblico, è uno stadio che canta dal primo all'ultimo minuto e che dà una grossa mano alla propria squadra, quindi domani da parte nostra ci vuole grande personalità, grande carattere, spirito battagliero perché domani quello non deve mancare e poi mettere in difficoltà la Roma, dove possiamo metterla in difficoltà? Sappiamo i loro punti di forza, sappiamo quello che possiamo fare anche noi nel momento in cui abbiamo la palla, quindi andare lì con personalità, con entusiasmo, con fiducia a proporre quello che abbiamo fatto vedere nelle ultime partite, cercando di sbagliare il meno possibile e poi tireremo le somme, ma è importante fare prestazione, giocare a calcio, giocare bene perché solo così si può venire fuori con un risultato positivo da quello stadio e contro una squadra così forte. Queste dunque le parole di Vincenzo Italiano alla vigilia della partita contro la Roma. Michela, ti chiedo subito che cosa ti ha colpito? L'ultima frase, cioè mi ha colpito quando ha detto che l'importante è fare la prestazione, perché solo con la prestazione si può uscire con una vittoria da uno stadio come quello di Roma. Allora, si torna al discorso che abbiamo sempre fatto, nel calcio il risultato è tutto. Detto questo, Italiano sappiamo che vuol cercare di arrivare a vincere le partite attraverso il gioco e attraverso la prestazione. Io sono convinta che la Fiorentina a Roma faccia un'ottima prestazione, poi però spero che oltre alla prestazione possa portar via anche un punto, già sarebbe una vittoria, quasi come una vittoria perché comunque lo stadio di Roma per la Fiorentina è sempre stato uno stadio difficile, non solo per la Fiorentina, ma parlando di Fiorentina è stato sempre uno stadio ostico dove spesso siamo usciti sconfitti. Quattro vittorie nelle ultime 27 partite. Appunto. I numeri sono devastanti in negativo, quindi no, mi ha colpito questo di chi ha detto appunto il mister italiano, io ripeto la prestazione è importante, però a me non dispiacerebbe neanche magari vedere giocare la squadra male domani e magari riuscire a centrare la quinta vittoria, perché secondo me contro la Roma, che è una delle squadre più forti del campionato l'abbiamo sempre detto, può succedere di tutto, o prende l'imbarcata oppure rischia anche di vincerla. Credo che il pareggio sia il risultato più difficile da far uscire domani, perché è una partita veramente tra due squadre, una squadra come la Fiorentina che comunque prova a giocarsela e proverà a giocarsela anche a Roma e una squadra come la Roma che invece è forte, in contropiede può far malissimo, perché ha gli attaccanti forse più forti della Serie A, però io sono fiduciosa, però domani. Abbiamo ascoltato anche le parole su Nico González. Sì, su Nico González ha detto come sapevamo che negli ultimi giorni si è allenato a parte e ha fatto differenziato. Ieri ha detto Vincenzo Italiano perché ovviamente gli allenamenti sono off-limits e quindi ha detto che ha provato a spingere un po' di più, sarà tra i convocati. Io penso che comunque giochi dal primo minuto perché Nico González, anche se non è al 100%, è un giocatore che ti può fare la differenza più degli altri. E invece Angelo, a proposito di Nico González, un suo recupero aiuta tanto a fare questa impresa contro una squadra che come hai detto da quando ha recuperato qualche infortunato e ancora ne mancano, pensano a Smolling, Abram e tanti altri, sta ritrovando punti in campionato. Sì, infatti secondo me può diventare fondamentale perché soprattutto la Roma se ha un difetto, lo scelta, è la difesa della Roma che molto spesso va nell'apnea perché ha Mancini che è forte però è uno che è portato ogni tanto a andare, io lo definisco così, a distrarsi, centrale non si deve mai distrarle e la Fiorentina gli può far male e che Nico González su quella zona di campo gli può far male. La partita è molto difficile, poi ne parlerò della Roma, per chi l'ho sempre detto, ve lo sapete dall'inizio, io ritengo la Roma come organico e insieme all'Inter è più forte nella sua complessità. Poi chiaro c'ha diversi giocatori infortunati, ha anche una scelta di aver comprato alcuni giocatori che comunque avevano dei problemi, non è che mi sono andati in questo senso. Poi davanti ha due attaccanti che se giocano fanno paura a tutti, perché i due davanti sono micidiani. Cioè uno è un armadio come giocatore, quell'altro ha i piedi quando dice giocare, forse è il più bravo che c'è in Serie A, perché Di Bala quando dice giocare non è infortunato, davanti è una roba. Allora questa è una partita difficile, però è una partita, e lo ripeteremo anche dopo nella mia rubrica, e il campionato è una svolta adesso, perché intanto la classifica di testa si è un po' staccata, fortemente, e poi la volteremo. Tutte le squadre sono lì, perché da 21 a 24 punti sono lì, chi vince ha ragione italiano, può fare uno scatto in avanti, vale per i due che vince, se vince la Roma, ma anche la Fiorentina se vince da 23 si porta a 26 e si porta a quarta in classifica. Se voi guardate le prime due, a questo punto dopo 15 giornate c'è già un bello stacco, perché il Milan è a 9 punti dall'Inter, è a 7 dalla Juventus, il Napoli addirittura 14 punti dall'Inter, la Roma uguale, cioè mi pare che il campionato si stia un po' spaccando. Ci sarà una corsa, almeno attualmente, a due, e il resto per la Champions, di qui alla fine dell'anno si decidono tante cose, chi diciamo lotta per la Champions. Poi ci saranno le squadre di mezzo, e nelle squadre di mezzo, guardate, che non c'è solo queste squadre lì, perché c'è il Torino, c'è il Bologna stesso, che domani può vincere e portarsi a 24, 25 punti, mi pare a 22 punti Bologna, se vince va a 25, attenzione perché ci sono delle squadre che lottano per quella zona della classifica, per l'Europa, cioè un campionato che diventa interessante su questo. La Fiorentina ha un'occasione, se squadra domani, importante, va a Roma e se la può giocare, soprattutto con giocatori come Nico González, come Buonaventura, perché la Roma la colpisci, soprattutto lì nel centro, perché Smalling è sicuramente un difensore di qualità importante per la Roma, molto spesso sposta un centrocampista a fare difensori perché non ce li ha. Sì, sposta Cristante spesso in linea con i difensori, però insomma, al di là di tutto, la Fiorentina, lui ha detto bisogna giocare bene, è nel DNA, la Fiorentina non può fare la partita di attesa, perché se fa la partita di attesa, allora si prende l'imbarcata. A Fiorentina bisogna, magari con più attenzione, con una squadra che ragiona di più, un po' più bassa, perché comunque abbiamo detto ci sono due fenomeni, poi ci hanno gli inserimenti dei vari centrocampisti, lo stesso Spinazzola si butta anche a un esterno, insomma, attenzione, però credo che anche la Roma, analizzando la Fiorentina, non sia molto contenta. Ecco, infatti, andiamo ad ascoltare le parole anche di Giuseppe Murigno, che ha parlato oggi in conferenza stampa e ha parlato del lavoro svolto in settimana della partita contro la Fiorentina e poi anche dell'incontro con il procuratore federale Giuseppe Chine dopo le discusse, no, parole prima della partita contro il Sassuolo, ma noi ci concentriamo sul campo. Ecco le parole di Murigno. A partirei sul momento a Roma perché, insomma, sono stati sei giorni di lavoro, no, credo utili dopo tanto tempo e capire un po' se sta salendo il livello di qualche giocatore, se a parte Smalling e Kumbulla sono un po' tutti recuperati, ecco qualcosa che riguarda questa settimana di lavoro in proiezione appunto della partita di domani. Sì, settimana buona perché abbiamo potuto lavorare bene, l'intensità alta, che è quello che di solito non possiamo fare quando giochiamo tante partite, con Smalling niente, non c'è nessun tipo di evoluzione. con Kumbulla sì, Kumbulla inizia già a allenare con noi, con qualche limitazione, però allenare con noi. se tutto va bene, non dico a disposizione totale, però dico poter aiutare, panchina, 10 minuti, 15 minuti. magari Napoli, se non Napoli subito la prima di gennaio, Marasch lavorando molto, molto bene. dopo gente come Renato, Pellegrini, gente che arriva di infortuni recenti, hanno avuto una buona settimana di lavoro. sono questi fuori, più tame ovviamente, però in questo senso viene il lavoro importante da fare, da tanto tempo che non si lavorava con tutta la squadra, insieme, principi tattici, buona settimana. Arriva alla Fiorentina un avversario di qualità, che partita si aspetta? Un avversario di tanta qualità, tante opzioni, grande rosa. Si ha visto che ha giocato contro il Parma e hanno vinto senza giocare con tanti giocatori che giocheranno domani. è veramente un'ottima squadra, con un'identità molto, molto propria, che gioca ovviamente per gli stessi obiettivi che giochiamo noi. La differenza in classifica dimostra chiaramente questo qua. Mi aspetto una partita molto difficile sicuramente. Queste le parole del tecnico portoghese, Massimo, si aspetta una partita molto difficile. Ha ragione, ha ragione. In questo caso non sta piangendo, non sta facendo pretattica, ha ragione. Perché di calcio ne capisci, poi è discutibile su tante altre cose, ma lasciamo stare. Però ha ragione, perché la Fiorentina ha detto bene, ha tante soluzioni, è una squadra che gioca bene. Dunque, ora la Roma che sta bene, l'unica cosa che mi fa paura, ti ripeto, è l'ambiente, è come carica la sua squadra, come influenza anche certe decisioni, che comunque alla fine, vuoi o non vuoi, lui c'ha tutti contro, però alla fine sta ottenendo quello che vuole. Mancini non doveva esserci contro la Fiorentina. Mancini, per dirti, quel mezzo fallo, quello è ammunizione contro il Sassuolo. Lui però, sapendo già, è riuscito a far sì che l'arbitro della partita con il Sassuolo fosse influenzato e poi dopo ha ottenuto quello che voleva, la vittoria, e Mancini che non venisse amunito. Però ecco, la cosa che mi è piaciuta dall'intervista, perché lo sa, è un uomo di calcio, sa che la Fiorentina può metterlo in difficoltà. Tra l'altro, lo diceva prima Massimo Maurizio, quello che colpisce della Roma è che è una squadra che non muore mai, è dimostrarlo proprio il fatto che in Europa è la squadra di aver fatto più gol dopo l'ottantesimo minuto. Lì c'è tanto la mano del mister, di José Mourinho, che ha fatto un lavoro, da quando è arrivato alla Roma, strepitoso. Due finali in due anni, di cui una rubata, lo ripeto, con il Sivilla, perché doveva vincere, anche dopo aver vinto la Conference, doveva vincere anche l'Europa League. Allenatore che è un maestro, è sempre bello anche ascoltarlo in conferenza stampa, perché non è mai banale. C'è sempre qualcosa da scoprire. Lui poi, se ci fate caso, fa sempre i complimenti agli avversari, già prima della partita. Parla sempre bene, qualsiasi avversario. E questo è segno di sincerità e nello stesso tempo di rispetto. Quindi è un allenatore, secondo me è un maestro. Io credo che bisognerà cercare di tenerlo in tutte le mani all'Italia, perché è un allenatore che sia negli anni che è stato all'Inter, che adesso alla Roma, ha veramente portato un qualcosa di importante nel calcio italiano. Io ho fatto sempre un po' il tifo per Murigno, perché comunque, ripeto, è una persona che ti insegna. A volte è vero, ha qualche modo di fare, che però secondo me, non dico che è giustificato, però lui quando sbotta o quando dice un qualcosa è perché lo pensa veramente. Non lo fa mai con secondi fini. Quindi è da seguire anche nelle sue, diciamo, esternazioni a volte che possano sembrare contestabili. Nella partita di domani sicuramente lui sa delle difficoltà che la sua Roma troverà, perché Murigno non è uno che fa catenaccio. Murigno gioca, la Roma gioca. Quindi la Fiorentina, quando trova le squadre che ti lasciano comunque degli spazi, va, diciamo, riesce a giocare il suo calcio migliore. Quindi mi aspetto una bella partita, però se devo dare un favorito, dico che la Roma secondo me è favorita proprio perché, come tu sottolineavi, è una squadra che segna molto, ha due fenomeni, uno è Di Bala. Di Bala, giocatore che ora come ora fa il campionato italiano, fa la differenza. Mi sembra che l'anno scorso proprio la Fiorentina fu decisivo e messo insieme a Lukaku, insomma, sono due attaccanti che ha una difesa che subisce tanto come quella viola, sicuramente si possono fare molto male. Io sarei contento se la Fiorentina riuscisse a portare via un punto, però la vedo dura. Dico soltanto, la Fiorentina tanto non ha niente da perdere. Parte sfavorita, deve andare lì con la testa libera. Fiorentina non so quelle di domani le partite che deve vincere, deve vincere le partite con le piccole. Salernitana, Monza... Monza a parte non è una piccola, diciamo squadre di più basso rango. Perché, come dicevate poc'anzi, la classifica è corta. Se la Fiorentina riesce a non sbagliare le partite con le squadre inferiori, Fiorentina può arrivare, non dico in Champions, perché molti parlano già di Champions dopo la vittoria della Salernitana. Non scherziamo, Fiorentina se riesce ad arrivare in Coppa, Conference, Europa League, anche un sesto posto, avrebbe fatto una grandissima stagione. Però deve concentrarsi a non sbagliare le partite con le piccole squadre. Con la Salernitana è stata perfetta. Ecco, Cagliari, Salernitana... La Fiorentina deve giocare come ha giocato con queste due squadre. Però ce ne sono due sole, Cagliari e Salernitana. E' vero. Però, per esempio, con l'Ecce fu un approccio sbagliato. Certo. Perché sul 2-0, poi, ecco perché ti dico, la Fiorentina domani deve andare lì con lo spirito libero, perché intanto se perdi a questa Roma ci può stare. Però posso dire una cosa. Cioè, io sono d'accordo, perché di solito, cioè, alla fine le squadre medio-basse sono quelle che ti danno i punti, no? Che fanno punti, fanno classifica, batterle, dico. Però io, siccome le ambizioni della Fiorentina, non ti dico che siano ambizioni di Champions, però sono ambizioni importanti. Cioè, la proprietà vuole migliorare quanto fatto nella passata stagione. Per migliorare quanto fatto nella passata stagione, credo che ogni tanto qualche partita contro una grande, ogni tanto, insomma, una vittoria, insomma, si può stare, no? Ricordiamo che sono arrivate soltanto contro Atalanta e Napoli. Esatto. Napoli, però, ci ha vinto anche Empoli a Napoli, eh? No, può per dirlo. E comunque... E comunque... Prego, prego. Certo, è una big, assolutamente sì. Però, voglio dire, la Fiorentina, secondo me, siccome spesso, in questi grandi stadi, contro queste grandi squadre, gioca bene, cioè, è vero, è quella squadra che domani va in campo senza avere niente da perdere, perché è la Roma che ha l'ambizione di arrivare in zona Champions. È vero che la Roma gioca in casa, che la Roma è più forte, è vero tutto. Però, io non vado là per dire, vabbè, me la gioco, tanto so che se vince la Roma è normale. Cioè, io sono una Fiorentina, gioco bene e me la voglio giocare per portare a casa punti. Però, Michela... Allora, un attacco pesante quello della Roma con Lukaku e Dybala, una difesa in emergenza con l'infortunio di Smalling, mentre proprio del centrocampo ha parlato Sammurinio in conferenza stampa. Sentiamo le sue parole. Io ripeto che il nostro rosa, tutta, insieme, senza infortuni, con tutti i giocatori, è un momento positivo di forma che abbiamo una rosa forte, una rosa che mi dà diverse opzioni, una rosa che mi aiuta anche a poter aiutare la squadra durante la partita con una panchina con diverse soluzioni. La verità è che lì, in centrocampo, le opzioni sono tante. Anche la crescita di Bove, che non è più il ragazzino che entra 10-15 minuti, 5 minuti, come faceva due anni fa l'anno scorso, ha cresciuto e questo è ancora di più. Lì abbiamo delle opzioni che quando non c'era Nato, non c'è Lorenzo, non c'è qualcuno di loro, non c'era Paredes squalificato in una partita. Lì non ci sono dramma perché troviamo sempre soluzioni. Però ovviamente che avere tutti disponibili lì, che ovviamente è importante, per ti dare un esempio, domani abbiamo Paredes, abbiamo Cristanti, abbiamo Renato, abbiamo Bove, abbiamo Pellegrini, abbiamo Awar, abbiamo sei giocatori lì a disposizione che è un numero, ovviamente un numero ottimo. Il Renato ha migliorato, ha migliorato questa settimana. Controlliamo ovviamente il loading di lavori, manca lì qualcosa per arrivare a sua intensità massimale. Lorenzo ha fatto una settimana di lavoro ottima, anche con un buon lavoro supplementare. Quel gruppo di giocatori lì siamo a posto, però tante partite, tante partite importanti. Dopo gennaio, inizio gennaio, subito Coppa, eventualmente una seconda partita di Coppa, se vinciamo la prima, è tutto lì, ovviamente che abbiamo bisogno di tutti i giocatori per la nostra difficoltà ovvia, chiara e difficile. È difficile nelle settimane passate e nelle prossime settimane, è lì dietro con i difensori centrali e ovviamente con Di Cacchi, chi parte, sarà ancora più difficile. Questo è un altro estratto di José Murigno in conferenza stampa, torno da Massimo Orlando, perché è vero che la Roma si sta riprendendo in campionato, però come diceva prima, anche Vittoria contro le big deve praticamente giocare contro tutte. La Roma diciamo che ha 24 punti, 24 punti, neanche meritati, se dobbiamo analizzare tutto. Neanche meritati? Perché ha vinto tre o quattro partite all'ultimo secondo, ribaltandole e quella è una caratteristica, una forza. Poi se tu mi dici che è una squadra potenzialmente da quarto posto, sono d'accordissimo, però se andiamo a vedere fino ad ora, lui ha sempre scaricato sui tanti giocatori che sono mancati, è vero, ma questo più o meno nel calcio moderno succede quasi a tutti, tranne che è una squadra che sta simpatica alla Vittoria, ma no, dico, tranne c'è solo l'Inter che grazie a Dio per loro hanno dei giocatori che fisicamente stanno sempre bene e vuol dire tanto poi alla fine, nel giudizio finale. Dunque per me la Roma è una squadra che può ambire il quarto posto, però devo dire la verità, ha avuto un calendario fino adesso, le partite che ha citato la Vittoria sono partite tostissime, dunque il campionato da Roma secondo me a cavallo di fine andata, inizio e ritorno, si decide per la Champions. Continueremo a parlare di Roma Fiorentina, adesso però ci fermiamo, rimanete con noi perché tra poco arriverà il momento delle pillole di Pollina. Grazie a tutti. Come vorresti che fosse il futuro? Lo abbiamo chiesto a chi dovrà viverlo e costruirlo giorno per giorno. Noi di Estra ascoltiamo questi desideri e li trasformiamo in progetti, chiedendoci quale pianeta vogliamo lasciare alle nuove generazioni. E la nostra risposta è quello che vorrebbero. Si può fare una poesia che parli di risparmi d'energia. Scopri come sul sito bilancio di sostenibilità.estra.it Sono iscritto in FIOM per essere consapevole dei miei diritti e farli valere. Perché la condivisione e l'unione di coscienze hanno un valore immenso. Perché il senso civico è al centro della nostra battaglia. Sono iscritto alla FIOM perché mi piace stare dalla parte giusta. Perché insieme possiamo fare di più. Ho scelto la FIOM per difendere i miei diritti e dare voce alle mie paure. Perché è lotta, resistenza e ostinatamente antifascista. Campagna di tesseramento FIOM CGL. Unisciti a noi. L'azienda agricola Le Pescine alleva galline e produce uova fresche da oltre 30 anni. Uova prodotte da allevamento a terra, all'aperto, per avere la bontà in tavola ogni giorno. Nello splendido territorio di Poppi, azienda agricola Le Pescine. L'uovo del Casentino. C'è l'influenza da principessa. E' il raffreddore Hard Rock. Muccio! Vivin C agisce rapidamente contro il raffreddore e i primi sintomi influenzali. Con vitamina C per le difese immunitarie. Per i tuoi EC. Puoi provare Vivin C. Naso chiuso. Prova acqua di Sirmione. Scioglie il muco. Libera il naso. Idrata la mucosa. Elimina virus e batteri. Acqua di Sirmione. Il più consigliato in farmacia. È da sempre garanzia di efficacia 100% naturale. Acqua di Sirmione. Una vera forza della natura. E come vi avevamo anticipato e promesso è arrivato il momento delle pillole di Pollina. Con un poco di zucchero la pillola va giù. La pillola va giù. Pillola va giù. Allora, Vittoria, questa sera è Giulio. Stasera poniamo tre pillole. Due amare, ma soprattutto la prima, a quei presidenti di calcio che pensano di poter fare tutto da solo. A chi mi riferisco? A chi mi riferisco? Mi riferisco a Napoli, ma anche a altre squadre. Dove il presidente ha detto che se ne frega se va via l'allenatore, va via il direttore sportivo. Tanto faccio da solo. I contratti li faccio da me. Il presidente del Napoli credo abbia fatto un danno al Napoli economicamente quasi irreparabile. Meno male i soldi li mette lui. Perché è una squadra che giocava bene con dei giocatori che non si riconoscano più. Cioè, se io guardo i giocatori del Napoli quest'anno, dico questi sono giocatori buoni, ma non eccelli. L'anno scorso sembravano dei fenomeni anche in città. Tutto questo per colpa di un presidente. Ma ce ne sono molti di presidenti in Serie A che ragionano così. Che pensano di fare tutto da solo, di poter visitare tantissimo. Questo è il danno del calcio. Il calcio è una cosa seria. Ognuno deve avere il suo ruolo. Perché se non hai il suo ruolo fai dei danni che talvolta diventano veramente irreparabili. La seconda pillola è il campionato. Il campionato entra nella fase importante, secondo me, dopo la quindicesima fino alla fine del giorno d'andata. Si comincia a deneare chi lotta per lo scudetto e chi naturalmente per le posizioni in Europa. Ora potrei dire stasera con la sconfitta del Milan che è un'altra squadra, un'altra grande, che batte un'altra bella boccata perché si allontana. Ma non solo. Ormai mi pare, a parer mio, che ci sono due squadre. Inter superiore a tutti e la Juve che cerca di rimanere attaccata per tenere il campionato vivo. Il resto sarà un campionato di mezzo dove lotteranno 6, 7, 8 squadre per andare in Europa. Poi vedremo se l'Europa è quella che conta o quella che conta meno. Ma mi pare che il campionato ormai sta dando una sentenza. L'ultima pillola è la Roma. La Roma l'abbiamo affrontata, ne avete parlate tutti. Io ricordo che dicevo all'inizio del campionato, chi segue un po' il calcio, che la Roma ha un grande organico. Dopo quello dell'Inter lo ritengo organico più completo. Certo ha dei giocatori che soffrono di infortuni o meno, ma vorrei ricordare che questa Roma, se non fosse partita male nelle prime 4-5 partite dove ha perso 3 su 4 partite che ha perso, questa Roma sarebbe lassù in cima e potrebbe fare paura a tutti perché ha un allenatore che è un grande in assoluto, copre tutto, fa direttore sportivo, fa il portavoce, fa tutto. E questa Roma secondo voi, secondo me, io penso che affrontarla è difficile per tutto, compreso la Juve e l'Inter. Queste sono le pillole di questa sera, dove la vera sorpresa può diventare il giorno di ritorno a Roma. Allora andiamo per ordine, iniziamo dalla prima pillola, quindi dal protagonismo di alcuni presidenti, hai fatto riferimento a Aurario De Laurentiis, chiedo Massimo cosa ne pensi appunto proprio di questo protagonismo da parte delle presidenze, mi viene in mente la famosa frase di De Laurentiis, sono io il vostro Cavani. No, no, è giusta l'osservazione di Angelo sui presidenti che, specialmente questi presidenti che pensano delle volte di essere più bravi dell'allenatore, del giocatore, del direttore sportivo che è fondamentale in una squadra, perché facciamo un esempio molto veloce, la Juventus l'anno scorso aveva difficoltà per la situazione societaria, Allegri che doveva gestire tutto lui, quest'anno gli hanno messo giuntoli, che comunque ti dà una mano, parli anche di calcio, anche di tattica, ti confronti, dunque ti sostiene. E devo dire, sul fatto di De Laurentiis, che comunque chi è tifoso del Napoli lo deve ringraziare, perché al di là del simpatia e antipatia comunque ha portato i risultati, ha dimostrato che appena un presidente vuol fare di testa, insomma Spalletti due mesi prima aveva capito tutto e ha detto io me ne vado, perché qui si vince ogni 33 anni e ripeto si diventa molto difficile. Però sei andato dal protagonista. Assolutamente, è stato bravo e comunque brutto vedere il Napoli che dopo 15 giornate è a 15 punti di distacco, però un po' quello che è successo al Napoli l'anno scorso. Secondo me il vero merito è che Spalletti l'anno scorso ha trovato un gruppo, una squadra, un'alchimia, che difficilmente ritrovi ed è venuto fuori uno scudetto perfetto. Non è che, Massimo, aggiungo solo una piccola cosa, vedi tu hai toccato dei punti fondamentali, ecco perché l'opposti stasera, Giuntoli non solo gli ha trovato giocatori importanti e andava a scovare, ma anche nel rinnovo dei contratti dei giocatori, che lui pensa di fare il padre padrone, alla fine va a finire male questa roba, perché alcuni giocatori che l'anno scorso poteva vendere bene, io penso che non li venderà più a quelle prese. No, fra l'altro, aggiungo, sta creando molta scontentezza in spogliatoio, spogliatoio, perché Varascheglia, no? Ok, ha fatto un anno, però è un campione, poi puoi dirmi sopravvalutato, per me è un campione, non puoi a un giocatore così lasciargli un contratto a un milione di euro, questo glielo devi adeguare come i giocatori veri, perché è così che funziona. E invece lui ha detto, no, io ho tre anni di contratto, penserò più avanti, lo perdi, lo perdi. Lì è un errore del Presidente. Prende più mina di Carasoglio. Ma prende più Ostigard. Bravo, ma secondo te Ostigard, tu sei in spogliatoio, sei che Varascheglia, e dici, guarda, Ostigard guadagna più di me. Ecco, Maurizio, parlando del Napoli, immagino che tu ieri sera abbia visto la partita contro la Juventus. L'ho visto, l'ho visto. E diciamo, come dicevo a inizio trasmissione, impressionante la Juventus in difesa, non è una novità, ma io ho proprio visto, allegra e maniacale, spesso richiamava i giocatori, proprio andare in marcatura su... non ti faceva praticamente mai avanzare. Varas ne saltava uno, era costretto poi a tirarla indietro perché aveva subito due giocatori che l'aggredivano. E qui bisogna fare i complimenti ad Alley. Napoli ha avuto questa grande occasione. Varascheglia, quel gol lì, probabilmente l'anno scorso stagione l'avrebbe segnato. Però poi devo dire che nel secondo tempo la Juventus, come si dice, dopo il gol di Gatti, ha chiuso la scenniera. Non c'è stato più occasione. Difendevano anche in otto dentro l'aria. Napoli era costretto a tirare da fuori, ma trovava sempre la muraglia. Cesni grandi interventi non ne ha fatti. E devo dire che il Napoli, pur giocando bene, non ha avuto chance ieri contro la Juventus. Quello che secondo me il Napoli... Io vi dico la verità, il Napoli secondo me può risalire in classifica. Ora è vero, c'è una crisi interna, però il Napoli ha una bella squadra. Diciamo che rispetto all'anno scorso, ora lasciamo stare la partita di ieri, ma molte occasioni che l'anno scorso concretizzava quest'anno non lo fa. Però il Napoli, secondo me, se Mazzari riesce a tirare fuori un po' dai giocatori quella grinta, quella determinazione che l'anno scorso l'avevano portato a vincere il campionato a mani basse, non dico che possa inserirsi fra le prime. Però è una squadra che sicuramente risale, perché i giocatori li vai a prendere uno per uno. No, ma con qualità per domani sì, però perderanno Ozyman a gennaio per la Coppa d'Africa. Poi dopo tu hai perso Kim, Kim ti permetteva di giocare con una difesa altissima, recuperava tutte le palle di testa. No, Kim era bravissimo. Tutte le palle di testa erano sue. Napoli quest'anno, per l'amor del cielo, sono d'accordo con te, se vai a vedere poi la rosa, ci hanno Raspadori, ci hanno Simeone, ci hanno dei giocatori interessanti. Però è anche un po' l'annata no. Lui ha creato un ambiente poco sano, il Presidente. Però lo sai cosa? Io credo che anche la pressione abbia fatto la sua in questa stagione del Napoli, fino adesso. Al momento che il Napoli adesso è lontano dai primi posti, magari i giocatori giochano più tranquilli, anche perché io sono convinto che, e parlavamo anche con Michela prima della trasmissione, molti giocatori andranno via. Quindi magari per farsi vedere anche da grandi società, Vara, lo stesso Simen, per il prossimo anno, io sono convinto che non resteranno, magari ecco, con un lampo d'orgoglio, ecco, verranno fuori e il Napoli risalirà in classifica. Anche perché la classifica del Napoli è sicuramente buciarda, quest'anno hanno perso delle partite le Empoli. Sì, ma vorrei ricordare che è in casa questo Napoli, perché fate tutte queste anni in casa, proprio quello che ha detto Massimo, il caos è ceneri spogliatoi e giocatori. Qua il problema è che se lui non va in Champions, non nelle Coppe, non va in Champions, non solo ha deprezzato i pezzi dei giocatori, perché è così nel calcio, ma non prende quei soldi là in Napoli, rischia fortemente, perché è questo di voler fare l'arroganza, di poter fare tutto da solo, nel calcio non si può fare tutto da solo. E chi lo fa? Ce ne sono molti, se volete vi faccio un elenco, non vorrei entrare, ci sono molti che pensano di fare il padre padrone, e non è così nel calcio, non lo faceva Agnelli, vorrei ricordare che Massimo ha giocato nell'Aiù, non lo faceva Agnelli. Ma ci sono altri esempi di altri presidenti? Mi viene in mente magari Cairo? Sì, sì, ci sono Cairo, ma ne potrei citare tantissimi, anche quello del Milan, che è un fondo che gestisce, il Milan ha fatto dei disastri in mani, aveva preso un direttore sportivo, uno come Maldini, che è un simbolo nel calcio mondiale, non è solo italiano, perché se Maldini telefona al Baer Monaco, si mettono sull'attento, che Maldini, se telefona a Beppe Di Vallero, dici chi è Beppe Di Vallero? No, no, è vero, è vero. Ma ne potrei citare ancora altri? Giulio, lascia stare, perché ci sono altri. Aveva anche imparato a fare il suo lavoro, dunque è entrato con il pedigree del grande nome, e però con anche abbastanza conoscenza, aveva con Massara comunque una bella coppia, e lì comunque vedo che questi americani, che mettono soldi, per l'amor del cielo, sono loro le proprietà, però tendono a fidarsi dei loro uomini e di... Però ecco, la cosa che io sto notando, e poi sicuramente il giorno di ritorno poi si fanno i conti da marzo in poi, due squadre sono superiori, Juventus e Inter, gli altri due posti Champions sono molto vacanti, perché Angelo parla della Roma e in questo momento la Roma potrebbe essere una serie pretendente, però attenzione al Milan che, sì, perde, è una squadra in grossa difficoltà, però anche il Milan ha tanti infortunati, giocatori a recuperare, io il Napoli, ripeto, non lo metto fuori ancora dai due posti Champions, c'è anche la Lazio, e la Lazio, che anche la Lazio adesso è in crisi, sta attraversando un po' di... È un altro presidente che pensa di fare, io non ho voluto dire, perché... Comunque di quelli che sono... L'arrogante, perché aveva un direttore sportivo come Stare, che gli compriva tutto a livello calcistico. Chi non conosce l'ho notito, che io lo conosco anche personalmente, è un arrogante, è uno che pensa di fare come gli pare, non funziona sempre così nel calcio, che al giocatore gli dice questo non ti faccio il rinnovo, faccio come voglio, Tari chi è, insomma siamo un amico, ma io posso fare senza... Tari, grande direttore. Non funziona così nel calcio, perché gli allenatori sono un ruolo importante, ma ricordatevi che il direttore sportivo deve stare sempre addosso all'allenatore. Assolutamente. Concludo dicendo velocemente, la Fiorentina per me può lottare per l'Europa League, perché l'Atalanta oggi ha vinto, ma è una scala anch'essa. Però la Fiorentina, non parliamo di Champions, però ecco, per l'Europa League la conferenza la Fiorentina ci può... Mi chiara la cosa? No, io volevo aggiungere sul discorso Napoli, che insomma poi... che si vede proprio la differenza dallo scorso anno, non solo a livello tecnico, perché è vero che tanti giocatori ci sono rimasti e credo che, vabbè all'inizio, è chiaro, va via Spalletti, ti prendi Garcia, questo è stato il primo errore di De Laurentiis che ha creduto che... E aggiungo, scusa, non solo l'errore di andato via Spalletti ci può stare, ma in modo come grande fratello, cioè si fa le cose che... Allora sento quello, sento quell'altro. Ragazzi, ma questa è roba da circo, veramente, quando dico da circo, ma che si fa così? Sento quello, sento quell'altro... Da cinema, da cinema, come fai il grande fratello, vanno, fanno le... Ma non è così nel calcio, finisci anche... Aggiungo che in questo momento, secondo me, qualunque allenatore arrivasse a Napoli si troverebbe in difficoltà, perché ho la sensazione che il Napoli non sia più un gruppo. L'anno scorso il Napoli era una squadra compatta, unita, tutti avevano lo stesso obiettivo e giocavano in armonia. Quest'anno, invece, ho la sensazione che eventualmente, se qualche singolo cercherà di fare bene per poi, prossimo anno, essere ceduto al migliore offerente, lo fa per se stesso, non per la squadra. Quindi ho la sensazione che il Napoli sia rotto il giocattolo, perché, anche se ero convinta che non si ripetesse, perché ripetersi in una piazza come Napoli è difficile, così come è difficile ripetersi in una piazza come Roma, come la Lazio, come la Fiorentina se un giorno mai riuscisse a rivincere il terzo scudetto, però, insomma, al di là di questo... Però è proprio che si è rotto il giocattolo e che non vedo più la squadra unita, compatta, e che ha lo stesso obiettivo. No, dicevo, la chiusura del cerchio sulla domanda iniziale mi ha fatto Vittoria. Cioè, che mi ha chiesto, come hai visto l'Iventus-Napoli? E il Napoli non è più una squadra. Quara a Scania non gli passavano mai il pallone. Cioè, ognuno ce l'ha per sé. Dov'è? Massimo, ma quindi con questo Napoli in difficoltà possiamo dire che la vera impresa della Fiorentina non è stato vincere al Maradona, ma battere l'Atalanta? Sì, assolutamente. Ora, Napoli ha perso tantissime partite in casa, costruisce tanto, si vede, è chiaro che è l'annata anche no, però la Fiorentina ha fatto l'impresa a Napoli e poi dopo ha fatto l'impresa anche con l'Atalanta, che era una partita, fra l'altro, dove l'Atalanta stava dominando. Ma l'Atalanta è sempre una grande squadra. Quest'anno ha tanti problemi però con gli infortuni. Ora si è rotto Scamacca, però voglio dire, lì davanti, a parte De Catteler, che anche oggi mi sembra sia stato praticamente, Lukman, gli Entramuriel, sono giocatori di altissima qualità. Dunque l'Atalanta sarà sempre, secondo me, almeno fino a quando ci sono questi giocatori, sarà sempre pericolosa. Però la Fiorentina ha una grande chance. Ragazzi, se tu stai lì, 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 io non ti dico della Champions perché è chiaro che deve succedere qualcosa, però dal quinto al settimo posto, la Fiorentina, deve crederci. Ecco Massimo, come cambierà il campionato quando alcune squadre italiane inevitabilmente non andranno avanti in Europa? Cioè cambierà il campionato? Cambierà sì. Ora, tanti elogi alla Juventus, più che giustificati, però gioca una volta alla settimana. È anche facile così. 4-0 dell'Udinese, su dell'Inter contro l'Udinese. È anche facile per la Juventus che ha dei giocatori fisicamente straripanti, che dominano. E giochi una volta alla settimana con l'allenatore che può preparare per tutta la settimana. È veramente diverso. Se la Juve avrà la forza di non perdere punti, di stare attaccata all'Inter, poi dopo l'Inter prima o poi un momento di calo lo avrà. Stesso discorso vale per il Milan. Il Milan, siccome il cardinale, pare che sia fuori di testa perché il Milan è molto probabilmente uscirà dalla Champions League, a quel punto diventa fondamentale riconquistarla in campionato. Dunque il Milan è probabile che sarà fuori sia dalla Champions che dall'Europa League e recuperando i tanti giocatori dovrebbe farcela. Però siamo sempre sul campo dell'ipotesi. Diventerà fondamentale anche quest'anno la Coppa Italia perché molte squadre deluse punteranno alla Coppa Italia. Ad esempio la Juve è un obiettivo. Sì, sì, certo. Deve essere un obiettivo. È un obiettivo per la Juve, per il Milan, per lo stesso Napoli. È un obiettivo. Diventerà la Coppa Italia quest'anno molto, ma molto, secondo me. E poi il calcio è un obiettivo importante perché comunque ti porta dei soldi e comunque ti porta un titolo e comunque poi il titolo ti porta tutto quello che ne viene dopo, no? Sì, sì, assolutamente. Ecco Maurizio, nella seconda pillola Angelo ha detto che probabilmente ci troviamo davanti di già, siamo già nella fase importante del campionato dove già si possono delineare le squadre che magari parteciperanno alle varie competizioni europee, però siamo alla quindicesima giornata. Cosa ci racconta di questo campionato? Ma senti, io lo sai, faccio sempre i pronostici prima, non mi nascondo mai. Io ho detto che le prime quattro erano Napoli, Milan e Juventus e Inter. Diciamo Juventus e Inter più per lo scudetto. La Juventus addirittura la davo favorita, anche se l'Inter, devo dire, è la squadra più forte. Io non sono molto... La Roma, la Roma si può inserire nel discorso Champions perché se recupera, perché la Roma, il problema della Roma è stato sempre i tanti infortuni che ha avuto e non aveva Lukaku la scorsa stagione. Adesso ha trovato il terminale al gioco che fanno loro, con Di Bala ripeto, sono una coppia fantastica. E soprattutto se recupera tanti infortunati, Mourinho è un allenatore che arriva sempre in fondo alle competizioni. Secondo me la Roma punta la Champions, punta perché l'anno scorso l'ha raggiunta la Lazio, quest'anno la Roma ci può arrivare. Ecco, io ripeto, vedo questi cinque squadri qui, nei primi cinque posti. Quindi la Roma, il Napoli, perché secondo me rientrerà, e lo stesso Mila, perché anche Mila se vai a vedere l'infermeria è strapiena. Io anche però ho sempre detto senza Pioli. Ora, io non è che ce l'abbiamo con Pioli. Io Pioli li voglio bene, ma non è un allenatore, sbaglia troppe partite. Con Gasperini tutte le volte, una volta l'ha presi cinque, oggi era riuscito a pareggiare, poi ha perso 3 a 2. Io penso che il Milan non lo so ora cosa succederà, perché va fuori, cioè gioca con il Newcastle, ma rischia di andare fuori. Ancora c'è una possibilità. Sì, vediamo. Però, Angel, io sono convinto che se il Milan dovesse rimanere anche distaccato in campionato, può darsi che, non lo so, non lo fanno mai a Milano, sponda rossonera di sostituire il Tecnico della fine della stagione. Però il Milan, dicevamo, non può fallire la stagione completamente, quindi magari c'è un avvicendamento. E il Milan, in quel frangente, avendo i giocatori, può risalire. Lì tra i Juve si sono già, hanno già preso l'argo. Ma se il Milan vuole chiamare Ibrahimović, perché senza la figura di Maldini, gli mancano solo di trasportivo, l'uomo di spogliate voi, l'uomo di collegamento. Cioè il Milan, la colpa del Milan non è solo di Pioli, che io sai che non è, ma è di questo presidente sbruffone, che pensa di fare tutto, di comandare tutto. Lui si arrabbia, adesso non va in Champions. Ma lui, un nome, chi è il direttore sportivo del Milan? Scommetto la grande massa della gente, non lo sa. Perché è arrivato Maldini, io lo chiamo Beppe Di Vallero, perché Beppe Di Vallero è un nome così toscano. Ma chi è? Cioè questo è il vero problema di Milano. C'è il cardinale, l'americano ogni tanto viene, comanda, ma il Milan ha dato male a Pioli da solo. Pioli è da solo. L'anno scorso è riuscito... L'Inter è a Marotta, vuol dire. Minan si affida a Moncada e Furlani. A Moncada e a Moneyball. Sì, vabbè. Sì. Capisci? Sì, no, no. Ma è fondamentale. Ma quando dobbiamo mettere la responsabilità a Pioli, come l'anno scorso... No, ma infatti Pioli ha delle giustificazioni, è che è solo. È solo? Che deve fare? È solo. Non parlo con nessuno. Bravo, l'anno scorso c'era Ibrahimo e c'aveva Maldini, Ibrahimo ci faceva spogliato. Maldini tutti i giorni era lì. Cosa è stato sbagliato, se non è massimo, in questo mercato? Troppi stranieri che non conoscevano il nostro campionato. Comunque l'intervista che ha fatto Maldini dice non è che ci vuole l'algoritmo per scoprire Reinders, Lofticek e Pulisic. Ha ragione, voglio dire. Ora, va bene che siamo in un calcio completamente diverso rispetto a tanti anni fa, però voglio dire, secondo me lo scouting è sempre lo scouting. È troppo importante andare a vederli i giocatori. Ora, il Milan con Maldini gli dicevano davvero non si può spendere, poi quest'anno ha speso 80 milioni. Evidentemente la figura di Maldini dava fastidio a livello di immagine, ti portava via spazio. Perché Milano era Maldini e non Cardinacca. Allora, la Juve non vuole Del Piero, perché non lo vuole. La Roma non vuole Totti. La Fiorentina non vuole Battistuta. Non vuole Battistuta e Antonioni. Voglio dire, ora, non che tutti debbano fare i dirigenti, perché non è che ci è dovuto niente, però secondo me l'immagine di un grande giocatore, come può essere stato Maldini e quelli che ho nominato, delle volte in spogliatoio anche i giocatori, se vai a parlare, ti ascoltano. Perché comunque sei uno che non vai lì per fare polemica, dici le cose giuste. Io il Milan, diciamo, a ranghi completi non l'ho mai visto. Il Milan è una squadra che quando giocano è impressionante. Ma no, ma giocano bene. Perché sono velocissimi. Prendano la profondità. Una squadra, guarda, che anche con la Juve a San Siro, ora c'è stata quell'espulsione e infatti. Ma guarda che il Milan, se gioca come sa, e gioca con la squadra al completo, il Milan secondo me è una squadra che fra i primi e questi sono stata anche la vita. Fra l'altro il Milan esce purtroppo, dico purtroppo perché stiamo parlando delle italiane, esce quasi sicuramente dalla Champions, che meritava in casa con il Newcastle e con il Dortmund, a Dortmund meritava quattro punti in più, sarebbe passata. Dunque gli è girata anche male. Perché il Napoli trova un girone, Union Berlino, Braga e Real Madrid. La Lazio facilissimo. Non so neanche io come ha fatto a passare. Io l'ho commentato alle partite, anche col Celtic non meritava per niente di vincere. Dunque al Milan gli è girata male. Però Pioli, mi dispiace perché, al di là che lui ha vinto un campionato, chapeau, perché alla fine ha vinto il campionato con una squadra che non era assolutamente la più forte, Pioli adesso è solo. E quando sei solo è difficile gestire una piazza come questa. Quindi ripeto, concludo la domanda vittoria, vedo queste cinque squadre, le prime due fanno un campionato a sé. Per gli altri due posti Milan, Napoli e Roma. Maurizio preparati perché tra poco arriva il tuo momento, vogliamo sapere quanti giocatori cambierai nella probabile formazione perché tra poco vediamo il possibile italiano e Murigno per la sfida di domani. Ultima pausa e poi torniamo. Il Capitini di Aliana offre da sempre una scuola di grande esperienza nel campo aziendale e turistico con opportunità di ottimi sbocchi professionali e la preparazione anche per le più prestigiose università. Il nuovo liceo linguistico valorizza le lingue e le culture delle società moderne per una formazione internazionale. Ti aspettiamo ai nostri Open Day. Grazie alla nostra competenza tecnica mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza e professionalità per supportarvi ed assistervi durante il percorso volto ad accedere al cosiddetto super bonus con detrazione del 110%. Dagli impianti elettrici agli speciali, dall'efficientamento energetico passando per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e wallbox, C&C System è in grado di fornire il giusto supporto per ogni esigenza di privati, imprese e condomini. Contattateci per informazioni. La ditta Traversi Romano si occupa della raccolta, recupero e stoccaggio al coperto di rottami ferrosi e non di ogni tipo. Le aziende possono conferire i loro scarti metallici direttamente da noi oppure usufruire del nostro servizio di comodato gratuito sui container. Non solo, ci occupiamo noi di tutta la documentazione necessaria e del rilascio dei certificati a norma. Siamo della ditta Traversi Romano di Settimello che commercia in rottami. Siamo lieti di accogliervi in sede. Format nasce nel 1986. Dalla trentennale esperienza tecnica e commerciale svolge il commercio, la consulenza e l'assistenza agli impianti di panificazione, pasticceria e gelateria. Nella nuova sede di 2000 metri quadri a Serravalle Pistoiese vasto assortimento di attrezzature usate, revisionate e garantite. Sala permanente per dimostrazioni periodiche di panificazione con la consulenza di esperti di vari settori. Santi Diva Sport. Sotto i portici Gambrinus a Montecatini Terme. Le maglie ufficiali, sciarpe, palloni, borse, linee a scuola, portachiavi e tantissimi altri gadget ufficiali. Lo sport unisce, anche se ognuno ha la sua passione per la squadra del cuore. Venite a trovarci, parleremo di sport e diventeremo amici. Santi Diva Sport, al centro delle vostre passioni. A Firenze si festeggia il Natale. Torna il prestigioso e storico mercato di Natale tedesco di Piazza Santa Croce. Dal 18 novembre al 17 dicembre. Un villaggio natalizio con tante idee e regalo. Per informazioni visita il sito www.mercatoeuropeo.net slash Natale Santa Croce o seguici su Facebook. Eccoci tornati in diretta. Siamo pronti ad analizzare le probabili formazioni di Roma Fiorentina. Giulio Falciai, dunque lascio a te la parola. Grazie Vittoria. Vediamo il possibile 11 di italiano contro i giallorossi. In porta dovrebbe tornare Terracciano dopo aver visto appunto Christensen in Coppa Italia. Difesa 4 formata da Cajode, Milenkovic, Quarta e Biraghi. A centrocampo tornano i titolari dal primo minuto ovvero Arthur e Duncan. Sulla destra se Gonzales sta bene sicuramente giocherà. Sulla sinistra potrebbe esserci la conferma di Sottil visto l'ottimo rendimento. Buonaventura che tornerà sulla tre quarti mentre là davanti al momento sembra essere in vantaggio nel ballottaggio della punta ovvero Lucas Beltran. Togliamoci subito il dente. Partiamo da Maurizio Canino. Quanti ne cambia di questi uomini? Problema. Si perde perché non cambia nessuno. No. No invece qualcuno lo cambia. Per esempio Biraghi lo cambia. Biraghi viene, Biraghi con gli esterni della Roma lo vedo in grande difficoltà sulle ripartenze soprattutto perché se ti prendono la profondità gli esterni della Roma sono micidiati, fanno male. Quindi Biraghi che solitamente va, si alza per crossare se prende un'infilata, perde il pallone o c'è comunque un cambio di fronte può andare in grossa difficoltà. Mourinho questo lo sa. Sottil io non lo so se verrà schierato o meno. Certo le ultime due partite l'ha fatte bene però magari io proverei a giocare diversamente. Metterei qua me Beltran attacco leggero e con Gonzales e Bonaventura, ripeto, Gonzales non sappiamo se è in forma. Bonaventura e Arthur non si toccano, Duncan secondo me va molto bene. Cambierai solo Biraghi e Sottil io magari lo farei entrare a partita iniziata. Partirei con Quame. Quame fa un po' di confusione, un po' tatticamente un giocatore che va anche a dare noia, no? Spesso in fase difensiva. E la Roma magari con un giocatore così che, diciamo io lo chiamo un guastatore, no? Quame. Ecco Quame con Beltran che magari si scambiano, chissà, io lo proverei così. Biraghi io non lo metterei, metterei Parisi a sinistra in suo ruolo e Cagliote a destra. Angelo quindi con solo due cambi su 11 vuol dire sconfitta. Sai che non entro mai, però mi faccio una domanda, la faccio anche a te Giulio. Ma Ranieri, come c'è questo ragazzo che era diventato bravissimo e non lo vede più? Per esempio, ma anche qui si va per logica, non parlo di tattica perché qui ci sono quelli più bravi che possono parlare. Io non entro mai sulle formazioni che l'allenatore allena la settimana, lo vede a sé, non vede dubbio. Però se mi chiedete di analizzare gli attaccanti della Roma, io vedrei molto bene Ranieri su Di Bala perché quarta in aria non sa difendere, c'è poco da fare. Quarta è un grandissimo giocatore, fatica in aria di rigore. Allora siccome Di Bala è uno dentro l'area di rigore che ti fa male con quel sinistro, cioè vedo uno come Ranieri che gli attacca addosso, dentro e più addosso. O no? No, no, no. È una valutazione. Angelo guarda, io Ranieri... Vieni fatta questa domanda, cerco di senza voler entrare nella testa... Io non ho parlato di Ranieri, Angelo, per questo semplice motivo. Vedi che Giulio l'ha stuzzicato, l'ha stuzzicato, l'ha stuzzicato. Hai trovato il terzo campo. È sparito, è sparito, non si sa perché. Per me Ranieri gioca sempre, come centrale gioca sempre. Ma anche per le caratteristiche dei giocatori della Roma, siccome in aria di rigore, ti ripeto, secondo me che Quarta è un bravo giocatore ma dentro l'aria non sa difendere, perché ha delle difficoltà, si vede, dell'amnissia dove la Fiorentina prende i cori, Ranieri attaccato a Di Bala, io forse allenatore ma non faccio questo mestiere, lo metterei perché... No, no, fra l'altro ti dico, ragazza quando è entrato mi è passato anche un po' nervoso. Fa degli interventi, dunque la sta un po' sentendo questa poca fiducia. Perché io critico spesso l'italiano sulla fase difensiva? Perché lui Quarta lo utilizza come centrocampista e attaccante, va, lui si sgancia. Quarta, non fa difensore. Sono allenatori moderni, Maurizio, sono allenatori moderni. Sì, ho capito, ma si difendi con uno con la Roma? Lasci solo Milenkovic in difesa, perché Pirachi in difesa non c'è mai, quindi sale. Chi difende? No, però ti voglio dire, quando abbiamo detto... Ranieri è un difensore. Sarà un casino per il dopo Mourinho, a Roma, sarà un casino anche per il dopo italiano qui. Perché non vedrai più quel bel calcio? Allora tu dirai, è chiaro che sono i risultati poi, no, quelli che contano, però siamo abituati a vedere una Fiorentina, la critichiamo, stiamo qui, analizziamo, però alla fine te la giochi sempre con tutti. Ora te magari hai un altro modo di vedere calcio, però il calcio moderno è questo. Allora, io ti dico, a me piace il calcio spettacolare, però poi si torna sempre lì. Quando vedi ieri che in Napoli noi abbiamo vinto... Ma con la Juve non puoi far calcio. Però, ragazzi, poi, siccome qui non si vince a troppo tempo, vorrei vincere qualcosina anch'io, allora dico, il mio Vangelo, il mio credo, lo scredito e dico, ascolta, non mi interessa giocare bene, però voglio vincere qualcosa. Anche una copiuccia Italia, copiuccia Italia, ma ci sei arrivato, sei stato sfortunato, hai giocato bene con l'Inter, ti è andata male col West Ham, però dai, i risultati sono arrivati, dai. Perché, per esempio, un angelo tante volte diciamo, la Juve gioca male, sì, ma fa risultati e alla fine conta quello. Allora, alla Fiorentina, magari... A me non mi citate, scusa, a me non mi citate giocare bene, giocare male, perché io sono, a differenza dal buon modo di vedere il calcio, perché se a me mi dite gioca bene una squadra e fa 70 passaggi, io vi dico che per me è una roba da circo, per me il calcio, il mio modo, così te lo spiego in un'ennesima volta, è che è bravo tatticamente, il calcio è bello quando tu guardi una squadra che tatticamente non ti fa passare, non ti fa tirare in mano. Però tu l'hai sempre criticato Allegri, per il modo di dire che... No, ma per l'amore del cielo... Angelo, tu l'hai sempre criticato Allegri, a te non è mai piaciuto. Ma l'ho criticato Allegri, l'ho criticato perché l'anno scorso faceva l'arrogante, da solo e perché mancava, faceva come andava tutto lui, parlava in questo, a me questo non mi sta bene il calcio in una società, è perché la storia... Però i ragazzi giocano una volta alla settimana, ripeto, vuol dire tanto... Sì, io lo dissi subito, lo dissi subito questo... Vuol dire non avere mai... insomma... Ripeto, italiano sì, sicuramente... Hai vinto tre partite al 97esimo, vuol dire tanto... Italiano però c'è da dire una cosa, gioca bene quando trova le squadre che lo fanno giocare, quando trova le squadre molto chiuse, la Fiorentina non trova mai sbocchi e quindi lì, diciamo che io un pochino questa cosa l'ho rivista su italiano, c'è il senso bravissimo contro le squadre che fanno giocare la Fiorentina, quando trova le squadre che non ti fanno giocare va in grossa difficoltà. Ora io spero che domani la Roma giochi a viso aperto, però ripeto... Non gioca a viso aperto, non gioca a viso aperto... E allora sarà un problema, perché quarta si sgancia, Miraghi si sgancia... Nessuno ha messo in dubbio la punta... Voi schierereste quindi Beltran per la difesa della Roma? Beltran, sì... Sì, sì, anch'io lo schiererei perché con la difesa della Roma... Tra l'altro proprio all'Olimpico ha fatto un gol bellissimo anche se gli è stato nulla... Cioè, se parliamo... Beltran credo che sia uno che ti può portare fuori, porta fuori Mancini, Mancini è più un uomo d'aria... Mancini domani lo muniscono perché... Secondo me... Alla partita c'è arrivato... Quei tre davanti io non li cambierei perché sotto i giocatori che se stanno bene sia Sottil con Gonzalti possono far male... Assolutamente... Alla Roma gli possono far male... Ora, sull'idea di come potrebbe anche avere qualche... Sottil magari inserire la partita in corso... Ma potresti anche avere ragione, però delle volte si deve sfruttare i momenti dei giocatori... E dunque... Sottil gioca anche per quello... È giusto dare continuità... L'importante è poi che ci sia il numero 10 e il numero 5 poi... Bravo... Tanto sono loro quelli che possono fare la differenza... Diciamo l'ossatura Gonzales, Buonaventura, Artus... Sono questi tre giocatori che... Comunque domani verrà munito anche chi... Marca Diva o Di Bala, come lo volete chiamare... Cioè, quel cartellino giallo mettetelo già in conto perché... Speriamo che non siamo uniti invece Buonaventura... Che ricordiamo essere diffidato... Ah, è diffidato? Eventualmente, esatto, salterebbe la gara contro Lella Sverona... Cioè, che non è facile... Io direi di passare... Esatto, con la formazione invece della Roma... Improbabile 11 invece di José Murigno... Con l'aiuto della grafica vediamo Rui Patricio tra i pali... Mancini, Llorente e Dica per quanto riguarda la difesa... Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini e Spinazzola... I 5 di centrocampo... Là davanti nessun dubbio... Giocano Di Bala e Lukaku... Massimo? Senti, gli esterni, i quinti, come si dice adesso al centrocampo... Sfruttano soprattutto Spinazzola... Giocano meno dall'altra parte perché... Karsdorp... Karsdorp? Sì, faccio fatica ogni volta... È un giocatore che si inserisce meno... Ha meno piede... Crossa spesso addosso all'uomo... Però, insomma... Dei due centrocampisti, Paredes e Cristante, stanno molto a protezione della fase difensiva... Pellegrini è un giocatore che ha avuto tanti problemi... Se sta bene comunque dà supporto alla fase difensiva... Dica, gli Oriente e Manzini concedono qualcosa... Dunque, da quella parte lì, soprattutto contro un Dica, Nico Gonzalez può far male... Angelo? Sì, sono d'accordo che può far male da quella parte lì... I giocatori pericolosi della Roma, secondo me, sono Pellegrini, Spinazzola, Di Bala e Lukaku... Questi sono quattro giocatori che su quella fascia lì, soprattutto se Spinazzola sta bene, ragazzi... E' uno che quando va a fondo non è solo che va a fondo, ma crossa bene, c'è piedi dal centrocampista... Sì, in più, da quella parte, la Fiorentina in fase non possesso, c'è Sottil che deve andare a aiutare... E lì potrebbe essere un mismatch... Mentre in difesa, sono d'accordo con Massimo, può far male, perché una cosa sarebbe stata se avessi giocato Smalling... Che io ritengo che sia... Smalling quando sta bene è forte... È un grosso difensore, ma in quella parte lì cede molto... Poi Mancini se lo porti fuori, ancora se lo mette dentro l'aria, è uno fisico, uno forte... Ma se lo porti fuori, ha ragione lui, rischia di farsi ammonire... Sì, alla prima entrata, sì sì... Maurizio? Sì, sì, no, la Spinazzola io quando avevo avuto degli infortuni, ma anche il nazionale faceva differenza... Mi ricordo all'Europeo quello vinto dall'Italia... Spettacolare, migliore, spettacolare... Era incontenibile... Pellegrini è un altro giocatore molto forte... Paredes è uno che dà equilibrio... Perché sia nella fase offensiva che nella fase difensiva, aiuta molto la squadra... Ripeto, a Fiorentina, come dicevamo, il punto debole era Roma... In questo momento è dietro, la difesa... Quindi a Fiorentina deve cercare di sfruttare quelle amnesie che la Roma può avere durante la partita... Però davanti sono devastanti, hanno 4-5 giocatori... Davanti la Roma è veramente forte... E poi condizionano le partite con questi atteggiamenti... Con questo chiedere fin dal primo o secondo... E sai, quello condiziona l'articolo... Grande personalità... Sì, però qualche volta anche qualche cartellino rosso... Dopo aver analizzato le probabili formazioni dunque di Roma e Fiorentina è arrivato il momento però di dedicarci ai nostri telespettatori con tutti i messaggi che ci sono arrivati, insomma, in queste ore, in questi ultimi minuti. Giulio Falciai? Sì, esatto, tantissimi messaggi che sono arrivati proprio sul discorso di Ranieri... Ma chi lo marca di Bala serve Ranieri e non Quarta... Avevamo Muriel nella possibilità di riscattarlo... Invece andammo a prendere Boateng, Cutrone e Quamecci... Vuole coscienza e competenza a fare calcio mercato... Mercato, questo ovviamente è riferimento alla vittoria dell'Atalanta... Poi ancora ci chiedono... Mi potresti aiutare a capire come questa Fiorentina possa passare da prestazione da Champions a partite da lotta per la salvezza, Michela? Qual è la prestazione da Champions? Non so, forse la vittoria... Con la Salernitana? Con la Salernitana, sì, sì... No, vabbè... E l'ultimo due... Una è stata da Champions per come si è giocata... Sì, diciamo l'approccio positivo, giusto, con la Salernitana... Però, insomma, per me le vittorie da Champions sono altre... Detto questo, dobbiamo cercare di sfruttare il momento positivo se hai vinto l'ultima partita in campionato... Hai passato il turno in Coppa Italia e andare a Roma cercando di fare il meglio possibile e cercare di mettere in difficoltà la Roma... Fare la tua partita e sono convinta che a Roma potresti fare anche una partita da Champions... Poi il risultato è un'altra cosa... E invece ancora, come vi fa piacere l'italiano? No, Massimo, non fa mai un raddoppio difensivo, ma è una sovrapposizione... Solo voi gli date del bravo... No, allora, io dico che si deve valutare l'allenatore in base ai risultati... Poi ti può piacere o non ti può piacere? I risultati negli ultimi due anni e mezzo a italiano sono arrivati... Potete dire che non è vero, ma non sarebbe corretto... Poi tu mi dici, ma non abbiamo vinto la Coppa Italia e nella Conference League... Ma ci sei arrivato, sei quinto, sei quinto in classifica, sei stabilmente tra le prime 5, 6, 7 squadre... Prima non accadeva, era da tanto... Poi, se l'italiano a fine anno è arrivato alla fine di un ciclo e si riparte con un altro allenatore... Però poi i nuovi allenatori, ragazzi, voglio far capire che sono così... Giocano questo calcio qui, magari sono un po' più attenti... Ma Tiago Motta ha un'idea di calcio che è quella di italiano, con altri giocatori... Te Zerbi, questi giocatori sono uguali... Con lo stampino vengono fatti... Francesco, Montella... Scusa Massimo, una cosa ti devo... No, no, per bene... Tiago Motta ha un'idea di calcio, ma Tiago Motta ha un'idea di calcio di come si difende... È una della terza difesa più forte del campionato contro i giocatori... Cioè Tiago Motta prima sistema la difesa... Ti ho detto, magari con un'idea di difendere migliore di quella che c'è italiano... Infatti gli abbiamo sempre contestato l'italiano che lavora meno da quel punto di vista... Ma io infatti Massimo quando mi arrabbio con la Fiorentina mi arrabbio per i gol che si prende... Certo... Che si prende i gol veramente delle volte imbarazzanti... Cioè un giocatore, due giocatori... Col palma eri sempre l'inferiorità... Arrivano in 4-5 e te eri due-tre giocatori in difesa... Questo non può succedere... Poi l'ho detto, l'unico difensore vero che la Fiorentina l'ho detto tante volte... Era Nieri... Gli altri non difende nessuno... Perché anche Milenkovic rispetto al giocatore che avevamo visto negli anni passati... Non è più... Ma lui lavora di posizione perché spesso bravo... Insomma è... C'ha esperienza... Sì, però spesso si fa prendere il filato... Vi devo interrompere, scusate perché dobbiamo dedicare un po' di tempo a una figura molto importante... La storia della Fiorentina che purtroppo ci ha lasciato nella mattinata di ieri... Sto parlando di Luigi Milan, il personaggio che ha fatto la storia della Fiorentina... Pur essendo stato a Firenze soltanto dal 60 al 62... Ma ci ha raccontato tutto quanto anche il nostro Gabriele Calderon tramite un servizio... È scomparso un mito viola... La Fiorentina piange la scomparsa di Gigi Milan... Avrebbe compiuto 86 anni il 10 dicembre... Quando nel 1937 nacque a Mirano in provincia di Venezia... È stato alla Fiorentina dal 1960 al 1962... Un tempo breve ma che gli bastò per iscriversi nella Hall of Fame del Museo Fiorentino... E di scrivere la storia viola... È stato protagonista della vittoria della Coppa Italia nel 1960-61... Da capocannoniere con quattro reti all'attivo... E soprattutto della Coppa delle Coppe della stessa annata... Segnando da protagonista assoluto... Le due reti che consentirono ai viola di vincere la finale d'andata in Scozia... Contro i Ranger di Glasgow... Facendo nascere la leggenda dei Leoni di Ibrox... Una parentesi al Ponte d'Era da giocatore... E poi da allenatore ha visto le città toscane di Prato... Massa Carrara... Poi la Real Cerretese... Ed infine la Rondinella nel 1990... Firenze non dimenticherà mai uno dei suoi Leoni di Ibrox... Che portarono in alto il Giglio di Firenze con il viola... Indosso... Riposa in pace... Gigi... Firenze... Non ti dimenticherà mai... Ringraziamo Gabriele Calderon per questo splendido servizio... Michela... Beh sì... È stato un personaggio importante nella storia della Fiorentina... Abitava tra l'altro anche vicino allo stadio... Spesso lo vedevamo al Franchi... E poi insomma... È uno... Come ha detto Gabriele nel servizio... Uno dei Leoni di Ibrox... Ha vinto la Coppa delle Coppe... Ha vinto una Coppa Italia... E per un giocatore della Fiorentina... Mi sembra che sia abbastanza... Visto che i trofei viola non sono tantissimi... Quindi vincere due trofei in pochi anni che è stato a Firenze... La dice lunga sull'importanza... Di questo giocatore... Di questo personaggio... E poi... Era simpatico a tutti... Era... Era amato da tutta Firenze... Una bella persona... Un abbraccio alla famiglia... Alla famiglia... Perché... Voto buono eh... Un Veneto che si è trasferito a Firenze... Che si è integrato alla Fiorentina... Amato... Un grande dispiacere... Veramente un abbraccio alla famiglia... Sì... Assolutamente sì... Il creatore ha fatto la storia... Ecco era doveroso... Ricordare questo personaggio... Caro a tutti i Fiorentini... Voglio uscire un po' da binari... Siamo arrivati alla fine... Voglio fare ovviamente Catanzaro... Ah bello... Cemellaggio... Catanzaro... Grazie Maurizio... Cemellaggio della Fiorentina... Non so come ti sia venuto in questo momento... Però grazie mille... Giulio Falciai grazie anche a te... Ma ringraziamo il nostro splendido studio... Grazie a Michela Lanza... Grazie a voi... Buona serata e buonanotte... Grazie anche a Maurizio Canino... Grazie a voi... Grazie ad Angelo Pollina... No grazie a voi ragazzi... Che sabato sera fate una compagnia... Tutta la gente... A casa lo vedo a commentare... Mi iscrive sempre splendidi... Belli... Puliti... Capaci... Preparati... Io vi devo fare sempre i complimenti... È un piacere passare sabato sera... Io non vi posso dare la buonanotte... Perché sono stato invitato... A vedere la Colombia alle tre... E c'è Mina alle tre... Grazie mille Massimo Orlando... Buonanotte a tutti... Vi ricordiamo che domani sarà possibile seguire Roma Fiorentina su Toscana TV... Con Giacomo Guerrini... Sauro Fattori... Stefano Cecchi... E Roberto... Grazie a tutti... Grazie a tutti...